questo primo teste, Montirma. Prego, si accomodi. Allora, signora, buongiorno. Lei si deve impegnare a dire la verità? Prego, no, si metta pure la mascherina, deve leggere ad alta voce quella formula davanti a lei. Bene e fedelmente. No, no, da Gidi forse è rimasta la forma del perito, prego. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto mia conoscenza. Allora, le sue generalità, come si chiama, dove, nata e quando? Sì, Irma Monti, nata a Roma il 16 maggio 1985. 85? Sì. Benissimo. Adesso rispondo alla domanda delle 85, sì. Prego, Pubblico Ministero. Grazie, Presidente. Sono autorizzato a rimanere seduto. Sì, sì, prego, autorizzato. Buongiorno, signora. Senta, lei nel 2018 che attività lavorativa svolgeva? Io ero impiegata alla Serfin, Serfin Group, impiegata contabile, amministrativa, attività di segreteria. E lei è mai stata titolare, socia, amministratore di società? Nell'anno 2018, sì. E come si chiamava questa società? La Sarma SRLS. Può spiegare quando è stata costituita questa società, chi erano gli altri soci? Questa società è stata costituita nel 2018, più o meno maggio, non ricordo comunque il giorno preciso. Io ero l'amministratrice e l'altra socia era Sara Spinelli. E questa Sara Spinelli chi è? La figlia di un amico del mio compagno. Vi chiedo scusa, non l'ho sentita. La figlia di un amico del mio compagno. Il suo compagno chi è? Chi era? Massimiliano Lunerti. Massimiliano non abbiamo capito. Massimiliano Lunerti. E questo amico del suo compagno chi è? Guerino Spinelli. Guerino Spinelli. Lei la signora Sara Spinelli l'ha conosciuta in che maniera? Conosciuta perché dovendo aprire questa società con lei, sono stata a casa loro, a casa dell'amico del mio compagno Guerino Spinelli e quindi poi della sua famiglia. Ma questa società era stata costituita a che scopo? Per aprire una paninoteca a hamburgeria. Per aprire una paninoteca? A hamburgeria. In quanto il mio compagno, essendo chef, avrebbe dovuto lavorare in questa società. Senta, lei da rispetto al 2018, quindi quando viene costituita questa società, da quanto tempo conosceva Massimiliano Lunerti e quando era iniziata la... Lo conoscevo da un anno, è il mio compagno, mentre il suo amico, diciamo, l'ho conosciuto qualche mese prima dell'apertura della società con la figlia. Scusi, la relazione quando comincia tra lei e il Lunerti? Un anno prima. Un anno prima rispetto alla costituzione della società? Sì, sono tre anni in tutto oggi. Sono tre anni ad oggi. Lei sa in che, quando e in che maniera il suo compagno aveva conosciuto Guirino Spinelli? Sì, loro erano amici di infanzia, praticamente. Sono cresciuti nello stesso quartiere, alla Romanina, quindi comunque sì, erano a conoscenza di vecchia data. Perdoni, ha suonato il telefono e mi sono un po'... Sì, dico, erano amici di vecchia data, erano amici di infanzia, loro due. E che rapporti c'era, di là del fatto che erano amici di infanzia, che rapporti c'erano tra Massimiliano Lunerti e Guirino Spinelli? L'amicizia di lunga data, è vasta fino all'epoca dei fatti in cui voi abbiamo cominciato, diciamo, in cui abbiamo aperto la società. Le ha mai raccontato un qualche episodio specifico circa l'amicizia? Sì, erano amici di vecchia data, in quanto poi, essendo anche vicini di casa, era capitato che si era ammalato di polmonite. Chi? E Massimiliano, e la mamma di Guirino Spinelli gli aveva fatto una voltura per guarirlo, insomma, ecco, l'aveva aiutato. Ah, scusi, devo guardare di là? No, no. Ah, ok, con la mascherina, scusi. Ah, sì. Ok. No, no, si deve tenere la mascherina. Ah, sì, scusi. Abbiamo pazienza. Parli a voce alta e comunque vicino al microfono non ci dovrebbe essere problemi. Va bene. Grazie. Prego a lei. Senta, lo ha già accennato, volevo che lo specificasse meglio. Sì. Quando esattamente lei ha conosciuto Guirino Spinelli e Sara Spinelli? Eh, li ho conosciuti un po' prima dell'apertura della società, in quanto era capitato anche a volte che uscivamo e siamo andati a prendere qualcosa insieme. Uscivamo chi? Io, Massimiliano e Guirino. E Guirino Spinelli. E invece Sara Spinelli l'ha detto, se lo può gentilmente specificare. Sì, diciamo, l'ho conosciuta, non mi ricordo il giorno esatto, ma l'ho conosciuta un po' prima dell'apertura della società, proprio per parlare dell'apertura della società. L'ha conosciuta dove? A casa loro. A casa loro degli Spinelli? Sì. Che si trova? Alla Romanina. Alla Romanina. La via precisa non la ricordo, però la zona è quella. Perché il mio compagno comunque era residente lì, in via Gregoraci. Ha conosciuto altri appartenenti al nucleo familiare? Sì, la mamma di Sara. Che si chiama? Laura. Laura? Casa Monica. Quando l'ha conosciuta? L'ho conosciuta sempre in quel periodo, nel 2018. E chi gliela presenta? Me l'ha presentata il marito, Guerrino Spinelli. Massimiliano? E Massimiliano, certo. Ah, ok. Massimiliano la conosceva già da prima. Ah, scusi, ho capito mio marito, io la sento male. No, mio marito, no. Il suo amico. Cioè, gliela... Il suo amico e Massimiliano. E Massimiliano. Senta, abbiamo parlato di questa società. Ci può dire le circostanze attraverso le quali poi si arriva alla costituzione di questa società, quindi tutti i vari passaggi? Sì, allora, praticamente in quel periodo Massimiliano non lavorava, quindi... Ah sì, Lunerti lavorava... Non lavorava in quel periodo. Sì, sì, l'ho capito. Precedentemente lavorava dove e perché poi non lavorava? Precedentemente lavorava a Capannelle, in un ristorante che si chiama Olimpia. e praticamente poi è andato via da lì perché c'erano problemi con i pagamenti, degli stipendi e quant'altro. No, scusate. Quindi abbiamo deciso nel 2018... Scusi, quando termina questo rapporto di lavoro? Luglio 2018. No, 2017, ora non ricordo precisamente. Comunque era l'estate precedente all'apertura poi del locale. Della società? Sì, esatto. E quindi? E quindi poi abbiamo cercato nell'inverno, diciamo, successivo... Mi ricordo che aveva nevicato, quindi saremo stati a febbraio nell'anno successivo e siamo andati a trovare il locale per aprire poi una paninoteca, una hamburgeria. e abbiamo trovato il locale di Via Acqui 32. Avete trovato? Il locale di Via Acqui, è un locale che era sfitto, l'ho trovato io l'annuncio, su internet e siamo andati a visitarlo. Una volta trovato il locale... Aspetti, scusi, precedentemente a questo, lei e il suo compagno, in che maniera pensavate da un punto di vista economico, di far fronte alle spese? Sì, allora, praticamente io in quel periodo con la mia famiglia stavamo effettuando una vendita di un paio di appartamenti, ho anche l'atto di vendita, e quindi praticamente dovevano entrare in totale 22.000 euro, di cui 10.000 dovevo restituirgliele a mia zia che mi aveva fatto un prestito precedentemente, e gli altri 10-15.000 pensavamo di investirle in questa attività proprio per aiutare lui e aiutarlo comunque a trovare il lavoro che cercava, ecco, crearcelo noi. Cioè, era la sua famiglia che aveva questa, diciamo, questa prospettiva di vendere gli immobili? No, io, mia madre e mio fratello abbiamo effettuato la vendita degli immobili e il denaro è confluito sul mio conto. Ok. Poi io ho pensato di investirlo in questa attività per poi avere un ritorno economico e quindi rientrare dall'investimento. Oh, ma Massimiliano aveva soldi da investire? Lui comunque mi ha detto che aveva comunque qualcosa da parte perché a sua volta aveva venduto l'appartamento di famiglia con la madre e la sorella, quindi qualcosina mi ha detto che aveva da parte circa 5.000 euro. Appartamento che è a sito dove? Via Gregoraci, quindi. Via Gregoraci. D'accordo, quindi lei stava dicendo, poi ricordo che aveva nevicato e ci mettiamo in moto per recuperare, diciamo, per trovare un locale. Mi ha detto che lo avete trovato dove? Via Acqui 32. E il proprietario del locale chi era? Longoroberto. Una volta individuato questo locale che succede? Lo abbiamo fermato, diciamo, abbiamo pagato la caparra e gli affitti, diciamo, secondo la prassi dei contratti di affitto, circa 4.000 euro, se non ricordo male. però comunque sia ci serviva un socio perché comunque le spese per ristrutturare il locale, comunque era da ristrutturare, da fare dei lavori, le stigliature e quant'altro, sempre Massimiliano mi ha detto, mi ha proposto di cercare un altro socio e questo socio... Che spese avevate preventivato che bisognava affrontare? Diciamo circa un 20.000 euro, però io ne potevo mettere a disposizione circa 10, 10 massimo 15 e quindi non bastavano. Ho capito. E da lì abbiamo deciso poi di... Lui mi ha proposto di... Lui chi? Massimiliano. Mi ha proposto di fare entrare la figlia del suo amico, in quanto comunque è donna e essendo noi due donne, metterci socia io e lei per usufruire eventualmente di vantaggi per l'imprenditoria femminile o comunque bandi regionali, europei. Le disse... Massimiliano sempre mi ha fatto questa proposta e di mettermi a me come amministratrice in quanto laureata in economia e quindi potevo magari seguire a livello amministrativo contabile la cosa, anche se non potevo comunque entrare materialmente a livello operativo dentro il locale perché io avevo comunque un altro lavoro e ho un altro lavoro. Senta, le disse Massimiliano in che maniera i suoi soci, quelli che sarebbero diventati i suoi soci, avrebbero potuto far fronte all'investimento? Sì, avendo comunque il Guerino una lavanderia dalle parti di Via Casilina, ora non ricordo comunque l'indirizzo ma da quelle parti lì, ah sì scusi, poteva mettere anche l'altra metà dei soldi. Quindi avrebbero fatto fronte degli altri 10.000 con i proventi della lavanderia. Di una lavanderia che aveva Via Casilina. Via Casilina. Ha detto prima che poi, allora, in questa occasione una volta deciso, diciamo, quindi di entrare in società, lei conosce Sara Spinelli, se non ho capito male, giusto? Ok, poi che succede? Poi siamo andati dal notaio per fare la costituzione della società e quindi l'apertura della partita IVA, non saprei dirle in che periodo, però diciamo sempre in quel periodo del 2018 sicuramente perché era successo. Scusi, la partita IVA la apre prima o dopo la costituzione della società? Nel momento della costituzione, quando siamo andati dal notaio Francesca Giusto e quindi abbiamo aperto questa società che era una società semplificata, quindi senza capitale sociale, giusto per poter poi aprire effettivamente il locale. Ok, e quindi? E poi quindi sono cominciati i lavori che però io non potevo seguire. Rispetto al locale lei ha detto prima lo avete fermato? Sì. Ci può dire in che maniera, quali erano gli accordi economici con il proprietario? Sì, gli accordi economici con il proprietario era che comunque dovevamo dare una caparra e il mese in corso praticamente ci siamo accordati che gradualmente l'affitto per permettere poi l'avviamento del locale era inferiore al prezzo convenuto, man mano poi a salire. La caparra di quant'era? 4.200 euro. 4.000? 4.200 euro. E? Non ricordo precisamente, però più di 4.000 euro comunque. E i soldi della caparra da chi sono stati dati? Per metà mio, la parte mia e per metà dall'altra parte. In realtà lei ricorda di essere stata sentita ai Carabinieri, questo solo per essere precisi, il 5 ottobre del 2018, in questo verbale le parla di una somma di 4.300 euro. Vabbè, cambia poco. Comunque sì, ecco, 4.300, 4.200. Somma che è stata data per la metà da lei e da Massimiliano? Sì, la parte insomma, ora non so l'altra parte, guardi, io i soldi che ho speso io comunque sono usciti circa 10-12.000 euro. Vabbè, questo poi arriva nella quantificazione, fermiamoci qua la caparra. Per metà le avete dati lei e Massimiliano, per l'altra metà i suoi vostri soldi. Doveva fornirle, diciamo, Sara Spinelli o Guerino Spinelli in quanto il padre di Sara. Perché lei dice, sempre in questo verbale, vale a dire 2.150 a testa tra me e Sara Spinelli, ovvero sia denaro che sarebbe stato dato dal padre Guerino. Certo, perché comunque lei non lavorava. Quindi le disponibilità economiche venivano messe a disposizione dal padre. Dal padre, esatto. E gli accordi tra voi, quindi stipulate, e invece il canone di locazione mensile, questo canone iniziale che poi sarebbe andato a salire, a quanto era stato fissato? Circa 1.000 euro. Che lei qua parla di 1.350 euro, IVA compresa. Esatto, 1.000 e più IVA, sì. Insomma, circa. Però non ricordo precisamente le cifre, perché è passato un po' di tempo. Allora ero più ferrada in questo. No, vabbè, è chiaro, questo serve solo per rinfrescarle la memoria. E i vostri accordi interni, diciamo, perché c'era da stipulare il contratto di locazione, fermare con la caparra, eccetera. Poi c'era da ristrutturare il locale. Esatto, e gli accordi erano che io, diciamo, fornivo il denaro disponibile e lo consegnavo nelle mani del Lunerti, che poi doveva provvedere effettivamente, operativamente, a seguire i lavori. Questo nei vostri rapporti interni, nei rapporti con la controparte, diciamo, non la controparte, diciamo, con i vostri soci quali erano? Queste spese come andavano divise? Andavano suddivise comunque sulla metà, diciamo, metà per uno. Quindi avreste fatto fronte a metà per uno e poi nei rapporti interni tra lei e Massimiliano, lei avrebbe dato i soldi e Massimiliano seguiva i lavori. Sì, esatto. Ok. Quindi poi i lavori iniziano rispetto alla stipula dell'atto costitutivo della Sede? Cominciano subito, diciamo, dovevamo aprire il prima possibile per poi cominciare a guadagnare, effettivamente, in quanto lui in quel momento, come ripeto, non lavorava e quindi dovevamo sbrigarci a finire i lavori. Poi, ovviamente, con il passare dei mesi, io poi mi sono accorta che i lavori... Aspetta un secondo, scusi, questo per cercare di coscrivere temporalmente. È già in atti, Presidente, lo abbiamo depositato, glielo mostro in ogni caso al test. la Sarma SRLS risulta costituita il 5 aprile del 2018. Lascio io? Lascio io. Grazie. Grazie, oggi abbiamo un po' di difficoltà. Grazie. Aspetti un attimo, scusi. Aspetti, aspetta. Le devo far vedere al Presidente, per favore. Me lo dà un attimo, che ne do atto al verbale, che esibiamo. Grazie. Esibiamo quindi al test, l'atto costitutivo della società responsabilità limitata, Sarma, Sarma. Chi si ricorda, per caso, l'udienza in cui l'ha prodotto? Guardi, l'abbiamo prodotto, credo, inizialmente e poi anche quando abbiamo sentito il test Flocker. Flocker, ok, va bene. In ogni caso, ad Appundanziam, anche per consentirvi una pronta consultazione... No, no, dobbiamo darlo al test adesso, viene esibito al test su richiesta del Pubblico Ministero. Grazie. 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 Sì, è quello, no? L'atto costitutivo della società lo riconosce. D'accordo, quindi l'atto costitutivo è di aprile, lei ha detto che i lavori iniziano subito, quindi già in aprile iniziano... Sì, primavera e estate del 2018. E quindi poi la situazione come evolve? Poi la situazione comunque non... diciamo che i lavori andavano a rilento, io non potevo seguirli in quanto avevo altra attività lavorativa, ma poi a un certo punto comunque anche il proprietario cominciava a farsi sentire che voleva l'affitto e io comunque i soldi che avevo messo pian piano stavano finendo perché tra una cosa e un'altra, comunque sia tra l'affitto e altre spese, anche dei lavori, comunque sia non riuscivo più a far fronte alle spese. Dall'altra parte anche mi è stato detto che non si riusciva più a continuare col passare dei mesi e quindi a concludere, a portare poi a compimento tutta la ristrutturazione del locale e abbiamo deciso nell'agosto del 2018, se non erro, ero sempre quell'anno lì, abbiamo deciso poi di lasciar perdere e riconsegnare le chiavi al proprietario, Roberto Longo, che ci ha rilasciato una dichiarazione in quanto riprendeva le chiavi del locale e ovviamente le capare non venivano restituite. Lei ha detto che i soldi non bastavano in quel momento e quindi poi siete arrivati a questa conclusione. Avete cercato, lei personalmente ha cercato di far fronte in qualche modo per recuperare altri soldi che servivano? No, perché non avevo altra possibilità di reperire altri soldi, l'unica vendita che era stata fatta dalla mia famiglia era stata quella, ho anche l'atto in borsa. Adesso allora se ce l'ha poi magari lo vediamo. Lei ha mai acceso finanziamenti? Finanziamenti successivamente però per far fronte alla ristrutturazione di un altro appartamento che poi ho affittato a Roma, a San Lorenzo. Però quella è una cosa mia personale perché in quanto avendoli già finiti per questa cosa qui che non è andata in porto, ovviamente io ho dovuto chiedere personalmente un prestito e ancora sto pagando le rate perché... Scusi, per capire, questo finanziamento lei l'ha acceso con chi e di quanto? Ma successivamente però alla chiusura della società. Sì, però mi rispondo alla domanda perché voglio capire se si tratta della stessa questione. Lei ha acceso un finanziamento con chi e di che importo? L'ho acceso con Ubi Banca, la banca dove mi entra lo stipendio, per poter poi fare la successione di mia madre che purtroppo è venuta a mancare per 1.500 euro e poi successivamente sempre ho dovuto ristrutturare l'appartamento che i miei avevano comprato che mi era caduto in successione in via De Sabelli e quindi ho dovuto comprare poi effettivamente una cucina di quell'appartamento e fare altre spese per poi affittarla. In che periodo siamo? 2019. 2019. Ha mai acceso finanziamenti con Fin Domestic? Fin Domestic sì. Però precedentemente, effettivamente sì, un prestito di 3.000 euro per fare le stigliature. Allora, cerchiamo di essere un po' più precisi. Lei ha acceso un finanziamento con Fin Domestic di che importo? Di 3.000 euro. Più o meno quando, se lo ricorda? 2018. Siamo prima o dopo l'agosto del 2018? Ora mi fa una domanda. Era sempre quel periodo, era prima allora, sì, era luglio 2018 se non sbaglio. E questo finanziamento di 3.000 euro doveva servire a che cosa? Per le stigliature, per le rifiniture del negozio. Ci può dire in che maniera sono stati destinati questi soldi, se se lo ricorda? Mi ha detto per il registratore, perché Massimiliano mi ha detto per il registratore di cassa, perché comunque avevamo dato già un anticipo e dovevamo comprare anche altre cose, insomma, per poter aprire. Poi era imminente l'apertura da quello che mi aveva detto lui. Poi effettivamente invece il locale ancora era tutto da sistemare o comunque c'erano molte cose ancora da fare. Scusi, di questi 3.000 euro, quanta somma viene destinata a cercare di mettere in piedi questa paninoteca? Se lo ricorda? Me lo ricordo, circa 2.000. Allora, lei dice questo, sempre dal verbale che le ho... Non ricordo bene le cifre, mi scusi. Vabbè, non si preoccupi. Di questi 3.000 euro, 600 euro furono destinati a saldare metà del canone di affitto del mese di giugno tramite bonifico fatto da me in favore... Della lungo SRL. Della... Sì, lungo SRL. Circa 900 euro la diede a Massimiliano per l'ultimazione dei lavori, tenendo per me la restante parte. Se lo ricorda è così? Sì, 900 più 600, 1.500. Ecco, io ho detto 2.000, però ecco. È così, giusto? Sì, sì. Quindi 600 sono per canone di azione e 900 per questa questione del registratore? Diciamo, registratore di cassa, poi diciamo mobili e quant'altro, ecco, avevamo quantificato così. Io almeno ho consegnato quella cifra lì, da quello che ricordo. Lei, mentre erano in corso i lavori e prima di poi a divenire alla decisione di risolvere il contratto con l'ungo, si è mai recata sul posto? Sì, io ho fatto un sopralluogo. Quando e per quale motivo? Io ho fatto un sopralluogo perché il proprietario di casa mi ha chiamata al telefono, telefonicamente, perché comunque vedeva che i lavori andavano a rilento, mi ha chiamato per farmi rendere conto effettivamente della situazione, in quanto io non potevo seguirla. E sono andata effettivamente dal signor Longo Roberto, che mi ha specificato, aprendomi il locale, mi ha fatto vedere materialmente che i lavori non erano andati a buon fine, non erano andati avanti per poter essere in grado di aprire il locale. Non mi ricordo il periodo, guardi, però sinceramente era poco prima che poi abbiamo fatto la riconsegna delle chiavi. Era comunque l'estate 2018. Ok, adesso io poi le mostrerò una missiva che è datata dal 13 agosto, che è quella della disdetta del canone del contratto di locazione, che è del 13 agosto del 2018. Quindi siamo poco prima rispetto a questa data? Sì, diciamo un po' prima, non mi ricordo il giorno esatto. Ma una volta vista la situazione, diciamo, che i lavori... Che non potevano andare avanti. Lei ne ha parlato con Lunerti? Certo. Che cosa vi siete detti? Cioè ha chiesto spiegazioni, dice, ma qui com'è che ancora siamo in alto mare? Beh, lui comunque mi ha risposto che i soldi pure dall'altra parte non c'erano più per continuare questo investimento e quindi che era meglio lasciar perdere. In questo arco di tempo, lei aveva avuto rapporti con Sara Spinelli o Guerino Spinelli per queste questioni della ristrutturazione dei soldi, eccetera? Sì, comunque sentivo ogni tanto il papà di Sara, Guerino, per chiedere spiegazioni anche dei lavori. Ecco, ci siamo sentiti qualche volta per parlare proprio di questa questione. Scusi, giusto per capire, da aprile 2018 fino ad arrivare alla disdetta, il 13 agosto del 2018, tra spese del canone di locazione, della caparra e dei lavori di ristrutturazione, lei riesce a quantificare quanto lei e Lunerti per la metà avete dato? Scusi, io dico sui 10-15 mila euro. 10-15 mila? Ho capito bene. Perché io comunque... No, scusi, non era una cosa... Da parte mia 10 mila, ecco, 10 mila. Intorno ai 10 mila euro? Sì, intorno ai 10 mila. Per la vostra metà? Sì, esatto. Senta, io le faccio... Presidente Mosso, anche questo dovrebbe essere in atti? Sì, no, è un documento, possiamo così integrare in verbale anche in relazione all'atto costitutivo che abbiamo esibito prima, si tratta della produzione effettuata dal PM all'udienza del 25 giugno 2020, sia dell'atto costitutivo esibito prima, sia della disdetta del locale, del contratto di locazione che viene esibito adesso alla testa, datato 13 agosto 2018. Le mostro questo documento che rega in oggetto di sdetta contratto di locazione numero 448 serie 3T registrato in data 29-5-2008 presso l'Agenzia delle Entrate, eccetera. Roma 13 agosto 2018, ci sono due firme, Sarma SRL, Irma Monti e Lungo SRL. Se lo vede, se lo riconosce, se riconosce la sua sottoscrizione. Sì, sì. Lo riconosce, è quello? Sì. Ok. Senta, ultime due cose, le voglio chiedere. Sì, prego. Lei aveva dato, voi avevate dato questa caparra, abbiamo detto, di 4.300 euro. Al momento della disdetta questa caparra che fine fa? È stata trattenuta dalla Lungo SRL. Ah, scusi, mi sente? È stata trattenuta la caparra dal signor Lungo Roberto. Dal proprietario dell'immobile. Ok. Senta, io le voglio mostrare un album fotografico che è composto di numero 13 fotografie. È un album fotografico che, tra l'altro, è già stato mostrato alla test nel corso delle sommarie informazioni rese ai carabini al nucleo investigativo del gruppo Frascati. È un album diverso, ovviamente, perché qui ci sono le sottoscrizioni, però è composto nella stessa maniera di quello che ha visionato già nel corso delle indagini. Abbiamo detto che è composto di numero 13 persone. La inviterei a guardare questo album attentamente, tranne l'ultima pagina dove ci sono le generalità dei soggetti. Quindi la foto numero 13 cortesemente si ferma e non va oltre. per dirci se riconosce qualcuno dei soggetti che ha menzionato, ma qui in generale se riconosce qualcuno. Cioè persone che lei ha conosciuto, ha visto. Che ho visto, certo. È l'album. Allora, quindi per la verbalizzazione diamo atto che viene esibito alla testa, il fascicolo fotografico prodotto dal pubblico ministero, composto da 13 fotografie. Viene anche uno per il tribunale se lo volete consultare nel momento in cui. Con l'invito a consultarlo senza esaminare l'ultima pagina. Devo dire se l'ho visto? Sì, cioè, la foto numero 1 si riconosce qualcuno? No, numero 1 no. La foto numero 2? Forse sì, forse sì, stavo a casa quando sono andata a cena da loro. Scusi? Numero 2, sì, mi sembra di averlo visto. L'ha visto dove? A casa loro. A casa loro di chi? Del Guerino, Guerino Spinelli. Di Guerino Spinelli, quando? Nel 2018 sempre. Ma in che occasione, se lo ricorda? Quando sono andata da loro sempre per conoscere Sara e per parlare della società. E c'era anche questo signore qua? C'era anche questo signore. Ma gliel'hanno presentato? No, no, presentato non mi ricordo come si chiama. Non si ricorda, quindi non sa come si chiama? No. Vabbè, andiamo avanti. Foto numero 3? No. Foto numero 4? No. Foto numero 5? 5 no. 6 no. Foto numero 6? 6 no. Foto numero 7? No. E numero 8 Sara, Sara Spinelli. Sara Spinelli, la sua socia diciamo. Foto numero 9? No. Numero 10 Massimiliano. Il suo compagno? Sì. Foto numero 11? Però 11 Laura. Laura Casamonica. Quella di cui ha parlato prima nel corso dell'esame? Sì, la moglie di Guerino Spinelli. Foto numero 12? No, numero 13 Guerino Spinelli. 12? 12 no. No. Numero 13? Guerino Spinelli. Basta. Va bene, c'è la leggenda, Presidente, se vuoi diamo atto delle generalità. Sì, allora possiamo dare atto che la fotografia numero 2 rappresenta Casamonica Luciano, la fotografia numero 8 Spinelli Sara, la 10 Lunerti Massimiliano, la foto Lunerti Massimiliano, la 11esima Casamonica Lauretta e la 13esima Spinelli Guerino. Va bene, Presidente, io credo... 13esima Spinelli Guerino. Il PM chiede l'acquisizione del fascicolo... Sì, chiedo ovviamente l'acquisizione del fascicolo fotografico. Se il Tribunale ritiene possiamo, per una vostra intellegibilità, io lo ritengo di no, però se vi fa comodo per una intellegibilità futura del verbale, anche l'acquisizione dell'atto costitutivo e del... Ma sono già... Sì, sono già gli atti, mi sembra inutile, però se per voi può essere più comodo. Sono già gli atti prodotti all'udienza del 25 di giugno. Valutatelo voi. Abbiamo già dato atta verbale, quindi sono già scannerizzati e non c'è bisogno. Va bene, perfetto. Sulla produzione dell'album non ci sono osservazioni delle parti, quindi il Tribunale dispone dell'acquisizione del fascicolo dibattimentale. Allora, vediamo se ci sono domande delle parti civili. Nessuna? Della difesa? Sì, Presidente. Prego, Avvocato Giraldi. Signora, buongiorno, sono l'Avvocato Giraldi. Una sola domanda, se non ho capito male, lei ha detto che l'investimento complessivo suo e del suo compagno in questa operazione, io la chiamo operazione paninoteca, è circa di 10.000 euro. Dall'altra parte, cioè dalla parte del signor Guerino Casamonica, che lei sappia quanto è stato investito in questa operazione? Che io sappiano quantitativamente non glielo saprei dire. Approssimativamente me lo sa dire? Come? Approssimativamente me lo sa dire? Sarebbe dovuta essere l'altra metà, quindi gli altri 10.000, che però io non so materialmente se effettivamente poi sono stati investiti nel locale, in quanto gestiva tutta la situazione massimiliano, il mio compagno. Quindi approssimativamente, certamente non più di 10.000? No. Questo vuol dire? Grazie. Non ho altre domande. Grazie. Ci sono altre domande? No. Lei signora che lavoro svolge? Io sono segretaria di direzione presso il gruppo De Angelis. Quindi all'interno di un'attività commerciale? No, è un gruppo immobiliare. Ah, immobiliare. Si occupano del settore immobiliare, delle cliniche. Va bene. Grazie, si può accomodare. Chi sentiamo adesso? Abbiamo atto che è arrivato l'avvocato di Michele. Buongiorno. Pieroni, Gabriella. Un attimo solo. Ah, va via l'avvocato? Ok. Sì. Chi la sostituisce? L'avvocato di Michele. Va bene. Quindi, grazie, arrivederci. Arrivederci. Io ho fatto una cosa ieri, no? Presidente, mi scusi, colgo l'occasione di questa pausa. Volevo soltanto comunicare che tra dieci minuti mi devo assentare un'oretta e mezza per un'altra udienza che ho al penale. Lascio in sostituzione il collega Golemme per tutte le mie posizioni. Tra dieci minuti e un quarto d'ora mi allontano. Va bene, magari poi fai un cenno alla collega. Faccio un cenno alla cance. Perfetto. Volevo solo anticiparla. La nostra cancelliera perché così sa che è dato in quell'orario che lei si allontana. La sostituirà comunque l'avvocato Golemme. Grazie. Allora, buongiorno. Signora Pieroni, giusto? Sì. Buongiorno. Senti, si deve impegnare a dire la verità. Trova davanti a lei una frase che deve leggere ad alta voce con cui si impegna a dire la verità. Buongiorno. Prego. Ah. Consapevole delle responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Allora, le sue generalità, signora. Le sue generalità. Pieroni Gabriella, nata a Roma il 23 settembre 1965. Bene. Risponda alle domande delle parti. Prego, pubblico ministero. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Senta, lei che attività lavorativa svolge? Io sono geometra, libero professionista. Si occupa in particolare di cosa? Guardi, noi facciamo un campo vasto, diciamo, estimo, topografia, pratiche urbanistiche, consulenza ai notai. Ha detto noi, in che forma svolgere questa attività? Libero professionista. Sì, ma ha dei soci, ha uno studio? Ha uno studio tecnico associato con un collega, Giannini Mario. Con un collega? Giannini Mario. Giannini Mario. I vostri clienti chi sono in genere? Allora, diciamo, cittadini privati o collaboriamo con i notai alla redazione degli atti, cioè quindi alla parte urbanistica e catastale degli immobili che vengono compravenduti, insomma, che vengono trattati? Tra i notai c'è qualche notaio con il quale avete rapporti più frequenti? Continuativi, sì, certo. Ci può fare qualche nome di questi professionisti con i quali avete rapporti più stabili? Il notaio Igor Genghini, il notaio Maria Cristina Spicci, Antonio Ioli, il notaio Pierantoni Rossella. Fermiamoci al notaio Pierantoni. Il notaio Pierantoni, da quanto tempo avete rapporti professionali? Guardi, adesso non ricordo, però intorno al 2001, credo. Sono iniziati? Sì, quando ha preso la sede a Via Paraguay e ha iniziato, diciamo, il lavoro. Senta. So che le chiedo, però gliela devo fare necessariamente generica. Ricorda di essersi occupato di una qualche pratica in particolare per il notaio Pierantoni, nell'anno 2018-2019. 2018? 2018-2019. Guardi, ne facciamo talmente tante che adesso capire qual è 2018-19 è un po' complicato. Si è mai occupato di una pratica che riguardasse un tale proietto Emanuele? Un'istanza di rettifica per un... Sì. Ecco, allora, se può... Però parliamo del 2014. 2014, scusi, l'ho detto 2018, l'ho portata io fuori strada. Le chiedo scusa. Può riferire nel dettaglio questo... Allora, praticamente... Di che cosa si doveva occupare e chi la contatta? Allora, mi manda la mail, credo preceduta da una telefonata, adesso non ricordo nello specifico, in cui mi veniva evidenziato l'esistenza di un duplicato di accatastamento. Cioè il catastro, lo stesso immobile, veniva trattato due volte. Tra l'altro, con una variazione dell'86, l'immobile era stato ampliato e quindi il catastro aveva erroneamente censito solo la variazione su una particella sbagliata. L'immobile originario era stato soppresso, quindi mi si chiedeva, diciamo, di sistemare questa incongruenza e mi si chiedeva anche se eventualmente il valore dell'immobile potesse essere inferiore alla rendita catastale attribuita. Quindi fece una ricerca sul valore... Scusi, chi è che la investe di questo incarico? Il notaio, vabbè, nella ragazza del notaio, chiaramente dell'impiegata, che insomma chiaramente lavora per il notaio e gli vengono esposte le problematiche... Con chi ha avuto? La ragazza chi? Si chiama Milena? Cognome lo sa? Adesso non mi viene. Non le viene, va bene, vedremo poi più in là. Quindi lei si doveva occupare di questa pratica catastale e di che altro? E della verifica sul reale valore dell'immobile, perché da quello che mi riferivano... Verifica sul reale valore dell'immobile, fermiamoci un attimo perché sono due aspetti distinti che voglio trattare distintamente. Per quello che riguarda la verifica catastale, lei si è attivata? Certamente, nel senso che la procedura è questa, si fa una relazione con un modello per le stanze e il catasto acquisisce la protocolla, dopodiché viene lavorata con i tempi tecnici dell'ufficio. Quindi spiegando appunto che c'era un duplicato e un'erronea soppressione dell'immobile. Ok. Prima di questo, prima di mostrarle un documento, le voglio chiedere, voi come studio avete un indirizzo di posta elettronica? Certamente. Che è? Geostudio 3, numero, chiocciolalibero.it Ok. E mi ha detto dov'è il suo studio, dov'è ubicato? È a Viale Sacco e Vanzetti, a Coglianiene. Ok. Allora io le mostro... Questa istanza di correzione catastoterreni fabbricati... presentata all'ufficio provinciale di Roma Territorio è pratica che è contraddistinta dal numero RM0342228. Le voglio chiedere di visionarla, è composta da 46 fogli in tutto. le voglio chiedere... se la visiona e se riconosce questa pratica e di che cosa si tratta. grazie. Sì, Presidente, se la vuole visionare, anche questa credo sia stata già acquisita agli atti, non ne sono certo, però in realtà ero certo, quindi in ogni caso ne richiederò l'acquisizione. Diamo atto che viene esibita la test su richiesta del Pubblico Ministero, l'istanza indirizzata... viene esibita al test su richiesta del PM, l'istanza... indirizzata all'agenzia dell'entrata, l'ufficio del Catasto, da parte del geometra Pieroni... in data 21 maggio 2014, con i relativi allegati. ... ... ... Grazie. Scusi, aspetti solo un attimo, gentilmente un secondo. Scusi, aspetti solo un attimo. Scusi, è la pratica che presentai per eliminare questa incongruenza catastale. Quest'immobile, scusi, è la sito dove? A Anzio. La via se la ricorda? Via Capri. Via Capri? Sì, credo. Veniamo all'altro aspetto. L'ha detto, l'ho stata investita di una duplicità di questioni per quest'immobile. Questa questione del catasto è quella del valore dell'immobile. La pregherei di spiegare nel dettaglio questa questione del valore. Con chi ha avuto contatti? Cioè, chi è che le fa questa richiesta? Il notaio perché i clienti... Il notaio direttamente o per il tramite qualcuno? Inizialmente mi mandò la ragazza del notaio, diciamo, l'impiegata del notaio, la famosa Milena. Dopodiché io mandai una mail dicendo... Allora, quindi viene investita di questa questione con una mail che le manda questa Milena per conto del notaio. Sì. Che cosa le si chiedeva? Se i clienti sostenevano che l'immobile non valesse più di 70.000 euro, diciamo, e quindi che succede? Quando noi ci troviamo di fronte a un immobile censito con una rendita, quello è il valore minimo dichiarabile, moltiplicato per i coefficienti. Succede spesso che l'immobile per una serie di motivi ha subito dei danni o comunque si trova in condizioni e quindi la rendita catastale non è vicina al valore reale dell'immobile. E quindi solitamente dietro sopra il luogo viene fatta una perizia in cui si dichiara che l'immobile è fatiscente o ha subito insomma dei danni, eccetera. E questa cosa si fa se è vera e se è comunque, diciamo, tangibile questo danno che l'immobile ha subito. Scusi che ne determina quindi un depreciamento, che ne ha determinato un depreciamento rispetto alla rendita catastale. Esattamente, però l'immobile nelle sue condizioni non aveva queste, diciamo, aveva perso queste... Scusi, a lei dicono cosa? Il cliente vuole vendere a 70.000? Sì. E quindi lei che cosa doveva fare? Dovevo capire se era possibile, perché noi ci troviamo di fronte a valori commerciali, valori catastali, eccetera, eccetera. E quindi stabilire se era possibile una cosa del genere. Io dissi appunto con una mail e poi mi chiamò il notaio proprio in persona e mi disse per carità, cioè assolutamente no, perché non è possibile dichiarare valori diversi dal catastale o dai valori uomini che erano abbastanza alti per la zona, perché è una zona residenziale, è un complesso di, credo, sei appartamentini, diciamo, a schiera e l'immobile era in buone condizioni. Quindi... Quindi le chiedono di periziarlo, quindi sostanzialmente di fare una stima. Esatto, esatto. Lei che accertamenti fa e a che conclusioni arriva? Allora, faccio gli accertamenti sui valori commerciali della zona, faccio accertamenti sui valori uomi e quindi quello che ci dà, il prezziario che ci dà l'agenzia delle entrate, non la rendita catastale, è proprio i valori di vendita, i valori medi di vendita e faccio un sopralluogo esterno all'unità, ma giusto per visionarla e non aveva nessuna di queste caratteristiche, insomma, era ben curata all'esterno. E quindi le altre conclusioni giunge dopo aver fatto queste verifiche? Aggiungo alla conclusione che non era possibile valutarlo diversamente da come era sia la rendita catastale che i valori uomi, che credo si aggirassero intorno ai 1700 euro al metro quadro. Ora, non ricordo, ma l'appartamento era abbastanza grande, credo da una novantina di metri quadri o qualcosa del genere. Non abbiamo capito, scusi. Eravamo proprio fuori da una dichiarazione di questo tipo. L'appartamento era di quanti metri quadri che non si è sentito? È circa una novantina, se non ricordo male. E il valore a metro quadro quant'era? L'ha detto ma non abbiamo capito. Non era proprio assolutamente possibile valutarlo di meno, non c'erano i presupposti. Lei prima ha dato un valore a metro quadro che non abbiamo colto, non abbiamo proprio sentito. Il valore a metro quadro sia dei valori uomi che delle vendite in zona, quindi era abbastanza alto, era su 1700 euro. 1700? Sì, quello non avevamo capito. Un valore medio diciamo. Quindi lei stima l'immobile facendo un conto 153 mila euro? No, io non vado a fare la stima perché non vado a fare la stima perché... Sì, però dico, la sua valutazione, ho capito che non la fa formalmente, la sua valutazione è che quell'immobile non può essere venduto assolutamente a 70 perché ne vale 153 mila almeno. Sì, diciamo che è un ragionamento medio senza aver visionato all'interno l'immobile, però diciamo stavamo proprio fuori dai 70 mila, ecco questo è chiaro. Ok, quindi una volta fatte queste valutazioni lei che cosa fa? A chi lo comunica? In una mail, in risposta alla mail che mi avevano mandato e poi mi chiamano e parlo direttamente con il notaio Pierantoni e gli spiego lei e lei mi ha detto no, assolutamente no, non è che mi imponeva di fare una perizia falsa, insomma ci mancherebbe e quindi abbiamo sovrasseduto. Quindi lei non fa proprio nemmeno neanche la perizia? Esattamente, però procedo con la retichica catastale che comunque diciamo andava fatta La pratica che lei poi cura e tratta, diciamo non fa la perizia ma poi manda avanti la pratica catastale per così dire. Senta io le voglio mostrare due mail Signor Presidente, mi scusi da Vigevano, le posso una cortesia, la di Silvio, l'imputata di Silvio chiede di rinunciare parzialmente per un colloquio con i familiari Va bene, grazie, ne diamo atto Grazie, mi scusi per l'interruzione Prego Allora la prima che viene inviata dall'indirizzo email rpierantonichiocciolannotariato.it Sì All'indirizzo geostudio3.it Inviato il venerdì 7 marzo 2014 alle 17.49 E poi ce n'è un'altra che è in successione diciamo nella stampata che viene inviata da geostudio3.it a rpierantonichiocciolannotariato.it L'oggetto della prima è pratica Bellardini, tra parentesi Milena, la risposta sua è pratica Bellardini, sua o meglio di questo indirizzo che ci ha detto essere quello dello studio Pratica Bellardini, tra parentesi Milena Mi scusi signor Presidente dall'Aquila Sì prego, aspetta un attimo Roberto Faccio presente che alle 10.51 fa ingresso all'aula 1, alla saletta 1 della casa scondaliere dell'Aquila il detenuto Casamonica Giuseppe del 1972 Va bene, grazie Scusi signor giudice da Lecce, posso interromperla un attimo per una comunicazione? Un attimo per favore Comunque allora diamo atto che le mail di cui viene chiesta l'esibizione risultano essere state prodotte all'udienza il 23 giugno 2020 Va bene, si tratta quindi delle mail indicate dal pubblico ministero datate 17 marzo 2014 e 7 marzo 2014 Prego 23 giugno 2020 Prego, un attimo solo Chi voleva intervenire? Salve signor giudice da Lecce Sì, mi dica Atto che alle ore 11 l'imputato Spada Ottavio rinuncia al proseguo dell'udenza Va bene, grazie Ne diamo atto a verbale, grazie Grazie Allora non avete nessun altro voi, giusto? Lecce non c'è nessun altro? Quindi possiamo autorizzare lo scollegamento? Sì, le volevo chiedere se le riconosce se è questa la corrispondenza via mail cui ha fatto cenno nel corso delle sue dichiarazioni Sì Ok, me le può irritare per favore perché devo fare alcune domande Aspetti Allora la prima mail quindi è la mail che manda questa Milena? Sì Sì, rileggendola credo che abbia fatto come spesso succede una telefonata diciamo Per anticiparle la questione Sì Perché infatti le dice se le ricordi ci siamo se ricordi ci siamo sentite in settimana e ti spieghiamo che loro hanno bisogno per poter vendere a un prezzo di euro 70.000 di una perizia sull'immobile che giustifichi appunto tale valore Esattamente Questo è quello che la rappresenta Perché loro avevano detto che non valeva di più e quindi il notaio ha detto possiamo vedere di fare una perizia se è vero quando io al notaio ho esposto insomma l'impossibilità a quel valore a quegli importi lei mi ha detto va bene ok ho capito insomma soprassediamo con la perizia quindi e nelle mail Quindi lei l'aveva rappresentata espressamente al notaio che quell'immobile secondo lei valeva non meno di 153.000 euro Allora nella mail nella mia risposta sì e poi il notaio mi chiamò e gli spiegai appunto che tipo di considerazioni avevo fatto verbalmente Quindi glielo dice che per lei l'immobile era di non meno 153.000 euro Sì cioè gli dico che erano il valore minimo uomini era 1700 euro su 90 metri quadri volendo considerare il valore minimo tra l'altro perché poi c'era anche un massimo Quindi anche solo col valore minimo eravamo a più del doppio Sopra assolutamente E il valore massimo quanto poteva girarsi? Così non me lo ricordo però diciamo che lo scarto in genere va da 1700 ai 2003 2004 dipende insomma dalle zone Quindi intorno più di 2.000 euro sicuramente 2.2 2.3 Sì sì in genere c'è uno scarto notevole Senta per questa richiesta della della valore dell'immobile eccetera Lei ha mai avuto contatti diretti? Cioè la richiesta le viene fatta esclusivamente dal notaio dal notaio o dalla ragazza del notaio o da Milena con la parte venditrice ha avuto contatti? Io ho mandato la documentazione con una delega da far firmare perché loro avevano necessità di fare l'atto subito quindi siccome l'unità comunque era censita andava sistemata ma era censita il notaio fece l'atto e io successivamente presentai l'istanza Dico però lei contatti diretti con la parte sia l'acquirente che il venditore il venditore perché era il cliente del notaio o l'acquirente Se ritenevo possibile fare una perizia perché ci diciamo dai presupposti rientravamo avrei dovuto chiamare il proprietario in quel caso No Ma a me interessa quello che è successo Lei contatti richieste dirette da parte delle parti del contratto l'ha mai avuta? No Quindi lei ha avuto interlocuzioni solo con Milena e con il notaio Esattamente Chi l'ha pagata per questa prestazione? Il notaio Senta io le mostro dei documenti che provengono appunto da GeoStudio Studio Tecnico Associato Si tratta di quattro documenti Se ci può spiegare di che cosa si tratta Presidente se lo posso mostrare Si tratta di GeoStudio su carta intestata GeoStudio Studio Tecnico Associato dei geometri Giannini e Pieroni in intestazione riaspettabile per Antonio Rossella oggetto e fattura 93 barra 15 compenso per la collaborazione tecnica prestata per gli atti di cui è la nota 1.15 e poi ci sono c'è un conto numero 1.15 che consta di due pagine tre pagine diciamo tutto che si riferisce al conto 1.15 Questo sicuramente non l'ho prodotto Sì allora documentazione viene esibita alla testa Sì questa è siccome su varie pratiche c'è che ne so la visura cadastrale la planimetria cadastrale una voltura per rettificare l'intestazione un'istanza di rettifica diciamo io faccio una fattura una tantum chiaramente con l'elenco delle voci che arrivano a quel totale e in questa immagino ci sia Anzio Via Capri che punto è il 35 è un elenco puramente personale quindi non inizia da uno ma ci sono fatturazioni di più pratiche che lei ha curato tra cui tra cui via al punto 35 quella che è relativa all'immobile di Via Anzio di cui stiamo parlando giusto? Sì Ok questa dimostrazione che è il notaio che l'ha pagata e lei mette fattura al notaio Sì No immediatamente quando mandai la mail mi chiamò il notaio e lei mi disse dice no no per carità Lasciamo perdere Lasciamo perdere nome del venditore quindi decidemmo per ragioni di tempistica farla direttamente all'acquirente e quindi poi mi fecero avere la delega da parte di Pirotto non mi ricordo come si chiama l'acquirente insomma direttamente dall'acquirente che presi dal notaio però io non ho mai Non ha avuto contatti Dico ma sulla gestione di questa compravendita sulla questione del valore eccetera che abbia avuto queste notizie No Va bene Grazie Presidente Io siccome credo di non averli prodotti questi No Allora guardi Differentemente dal Magari se me li ridà un attimo perché credo che alcuni siano qua Vediamo se ci sono anche quest'ultimo documento Dico la mail le mail sicuramente le ho prodotte ma non credo ci siano in atti sono pressoché certo tanto la pratica catastale quanto la fattura che abbiamo mostrato in visione della testa e quindi ne chiedo formalmente l'acquisizione Grazie a tutti Grazie a tutti Forse in realtà la istanza risulta essere stata presentata il 5 settembre 2014 quindi c'è all'interno un documento che recita maggio 2014 21 maggio ma in realtà un documento allegato all'istanza in realtà l'istanza il 5 settembre il 5 settembre è stata lavorata forse non lo so perché questa cosa ha ragione ha ragione quindi allora depositata correttamente come ho detto prima 21 maggio 2014 ed evasa la pratica il 5 settembre 2014 e questo è tutto già stato prodotto all'udienza del 23 giugno invece non è stato prodotto perlomeno non lo ritroviamo in questo momento tagliati la fattura che è stata esibita alla testa e che quindi viene acquisita per cui restituiamo al PM il documento sull'istanza cadastrale allora restituiamo al PM la fattura invece del 27 ottobre 2015 emessa dal studio Geostudio nei confronti di Pier Antoni Rossella 23 giugno udienza 23 giugno 2020 va bene non ci sono altre domande per la testa vediamo se ci sono domande no io ho terminato grazie domande delle parti civili no domande della difesa no un attimo solo prima che lei vada via perché c'è mi dicono da Terni Bellardini che vuole fare una dichiarazione spontanea sì Presidente mi perdoni sì no aspetti un attimo però prima vediamo un attimo se abbiamo esaurito l'esame della testa oppure no lei rimanga un attimo lì che la facciamo parlare in un secondo si senta ma forse risulta dei documenti che abbiamo acquisito ma la rendita catastale di quest'immobile qual era? adesso così non me la ricordo cioè se c'è sicuramente nel fascicolo le visure nell'istanza diciamo di variazione catastale allora Roberto prenda un attimo il documento che ha in mano il Popolo Ministro e lo restituiamo se lei ci precisa qual era la rendita catastale e quindi qual è il valore diciamo minimo che doveva essere dichiarato per la vendita di quest'immobile grazie era 1120 scusi alla rendita catastale era 1120 metro quadro il valore che va moltiplicato a secondo dell'acquisto prima casa o seconda casa quindi o 115 o 125 credo quindi quello è il valore minimo che si dichiara in atto quindi lei è in grado di dirci ora quale sarebbe stato il valore minimo che avrebbe dovuto essere dichiarato per rispettare la rendita catastale sui 130 quindi non meno di 125 più o meno quindi circa non meno di 125 mila euro sì ho capito lei poi prima ha fatto riferimento quando ha spiegato i criteri che ha seguito per determinare il valore commerciale e quindi valutare la effettiva esperibilità di una perizia a quei fini che le venivano richiesti ha fatto riferimento ai dati dell'agenzia delle entrate ha parlato dei dati OMI sì i valori OMI valori OMI OMI osservatorio mercato immobiliare OMI osservatorio mercato immobiliare va bene va bene si può accomodare sentiamo Dardini buongiorno 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 io vorrei soltanto riferire una cosa molto importante che non è stato detto in aula adesso praticamente la casa sì è vero che è stata venduta a quel prezzo che venne dichiarato sul verbale ma automaticamente la casa era non agibile come ha detto il notaio che il giardino era presentabile che non è mai stata fatta una perizia e questo è logico ma era tutto da ristrutturare perché a me mi hanno praticamente di cui era da rifare cancelli grondaglie porfido tutta da ristrutturare completamente praticamente io l'ho venduta a quel prezzo sotto prezzo perché la casa c'era praticamente dei lavori da fare molto agibili per poterla vendere in condizioni più adeguate soltanto quello voglio dire io non ho fatto nessun reato per me considero questo perché casa mia padre l'ha comprata è stata pagata onestamente seconda cosa io casa l'ho venduta onestamente non capisco che problema c'è verso di me sono stato chiuso in galera non so che cosa ho commesso logicamente io lo dico veramente con il cuore in mano proprio questa casa era di mia proprietà io non ho messo nessuna legge nessuna infrazione soltanto dico una cosa se casa è mia di proprietà io sono padrone a fare ciò che voglio di casa mia adesso a lei la ringrazio che mi ha ascoltato grazie grazie va bene senta alla luce di queste dichiarazioni che ha fatto l'imputato lei ha detto che non è entrata all'interno dell'immobile ha sentito che l'imputato ha fatto riferimento al fatto che era necessario rifare i cancelli cioè lei l'ha vista dall'esterno quello che ricorda della sua però erano tutte condizioni che non non pregiudicano così tanto cioè il sì magari valeva di meno ecco dei valori omi per carità di Dio ma non è come se io vendo una casa non ristrutturata che magari ha i cancelli rotti il portoncino blindato rotto eccetera eccetera non influenzano così tanto il valore della vendita ma lei ha riscontrato al di là di del tutto che ci fossero queste questo stato di degrado di questi elementi anche esterni no? perché lui ha menzionato gli elementi anche esterni dell'immobile beh io parlai con notaio cioè appunto mi dissero che avevano necessità di vendere a questo prezzo perché comunque dice che la casa non valeva così tanto no ma qui io le sto chiedendo quello che ha potuto constatare lei andando in loco e appunto che si vedeva che era disabitata da tanto che c'erano appunto delle diciamo una ristrutturazione sicuramente da fare e comunque delle però non c'erano né lesioni strutturali c'erano comunque le porte le finestre insomma le finestre erano ben messe quindi sì il giardino era però voglio dire un giardino quanto può influenzare il cancelletto rotto cioè ma lei ricorda che ci fosse poi questo cancello rotto? io ricordo cerchi di fare un po' mente locale sì era un po' fatiscente insomma era un po' non chiudeva bene insomma era una cosa un po' abbandonata ecco pretenderci abbandonata però perché siccome prima ha detto che era in buone condizioni no? abbandonata che vuol dire? che c'era l'incuria del tempo rispetto al giardino alla vegetazione o c'erano anche diciamo che il passare del tempo aveva determinato anche delle insomma delle lesioni o comunque insomma delle esigenze di una manutenzione straordinaria della casa no straordinaria no sicuramente una manutenzione quello senz'altro cioè zitteggiatura il giardino era completamente da rifare sostituire cancelli il tetto del portico era insomma scrostato però non erano lesioni strutturali ho capito va bene va bene se non ci sono altre domande liberiamo la testa grazie può andare allora chi sentiamo adesso? quattro occhi Emanuele? sì presidente mi perdoni sempre la terni no vabbè però non può essere la risposta che c'è? Berlardini vorrebbe intervenire scusi signor presidente guardi molto velocemente perché non è che possiamo interrompere in cinque nazioni prego un secondo le posso soltanto dire che io soltanto per potere entrare dentro casa devo spendere all'incirca ho chiamato una ditta privata soltanto così che si chiama pica ricostruzioni case a me mi ha fatto un preventivo spiccio così senza senza cose dichiarate ci volerano all'incirca 110-120 mila euro come fa a dire il geometra che casa non era in condizioni ad abbandono sì ad abbandono sì perché non c'è più nessuna possibilità per rimettere a posto questa casa visto che sono cascati i paletti della luce i paletti interni se il geometra non è entrato dentro non può dichiarare una cosa che non è vero va bene abbiamo capito abbiamo capito il suo punto di vista grazie va bene allora sentiamo facciamo entrare questo test venga allora buongiorno buongiorno allora no no la deve tenere allora la deve tenere si deve impegnare a dire la verità leggendo l'alta voce questa dichiarazione consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanta mia conoscenza allora le sue generalità Quattrocchi Emanuele dove è nato e quando Velletri 8 gennaio 1978 grazie prego pubblico ministero sì grazie buongiorno buongiorno senta lei che attività lavorativa svolge allora io produco pane quindi a un forno sì dove da quanto tempo all'Ariano da circa 8 anni quindi dal 2010 sì ma come si chiama sto forno GMG GMG All'Ariano sì All'Ariano hai mai conosciuto qualche Casamonica sì Salvatore Casamonica lo ha conosciuto quando e perché che occasione Salvatore io l'ho conosciuto diciamo una decina di anni fa perché avevo avuto un problema con una persona e lui mi ha aiutato a risolvere questo problema no allora devi dire che di che tipo di 10 anni fa rispetto ad oggi eh sì lei quindi siamo nel 2010 2011 ma forse anche 2009 esattamente adesso l'ala esatta che l'ho conosciuto non mi ricordo scusi lei aveva già l'attività lavorativa all'Ariano sì sì quindi è dopo l'attività lavorativa dopo l'inizio dell'attività lavorativa all'Ariano no prima prima l'ho conosciuto no dopo scusi dopo 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 e ha detto l'ho conosciuto per quale motivo perché io avevo un problema con un ragazzo di Roccapriora che in poche parole aveva avuto bisogno mi aveva fatto un piacere e non potevo risolvere questo problema e Salvatore mi ha detto siccome lui lo conosceva mi hanno presentato Salvatore e ho detto guarda se ci parla lui e a titolo di amicizia mi ha fatto parlare questa persona abbiamo trovato una via buon'aria per poter risolvere questo problema che io c'avevo scusi non l'ho capita anche perché diciamo tutto un po' generico quindi dobbiamo un minimo dettagliare quello che lei dice ha avuto un problema con una persona chi è questa persona? si chiama Franco questa persona questo Franco chi è? dove ha? che fa? dove vive? a Roccapriora guardi tutte le cose io le ho detto già anche al comando lo so però le deve ripetere qua perché le deve conoscere il tribunale quindi lei faccia conto che il tribunale quelli che si che vede lì non conosce le sue dichiarazioni quindi le dobbiamo rispiegare in maniera dettagliata per far comprendere allora io avevo un problema con questo Franco che non conosco perfettamente dove abita adesso a distanza di 10 anni quando l'ha conosciuto questo Franco lei? questo 15 anni fa un amico di vecchia data e dove abitava questo Franco? sotto Rocca del Papa via 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 dei Gelsi mi sembra una cosa del genere però esattamente io posso far sapere se vuole vado a vedere e io faccio sapere questo questo che problema aveva avuto con questo Franco? che aveva avuto bisogno di un po' di liquidità e mi aveva fatto un prestito un po' di liquidità di che liquidità parliamo? intorno ai 10.000 euro intorno ai? 10.000 euro e questi 10.000 euro le servivano per che cosa? proprio per aprire l'attività l'attività perché io dopo ho aperto un forno prima avevo aperto un punto vendita che poi è andato male è stato chiuso e quindi? e quindi mi avevo fatto questi soldi per aprire questo punto vendita e parliamo ha detto di 10.000? sì lei ha detto di essere stato giusto per essere precisi ha detto di essere stato sentito ai carabinieri giusto? 27 settembre 2018 in quell'occasione lei dice che il prestito che chiede è di 12.500 euro vabbè 10-12 esattamente la cifra proprio sì 10-12.000 euro insomma aveva delle scadenze dei pagamenti da fare no 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 non avevo scadenze non è che non avevo scadenze gli ho detto che nel giro di un mese o due glielo avrei restituiti no non delle scadenze con Franco delle scadenze sue da rispettare per cui ha chiesto questi soldi in prestito e dovevo pagare i cambiali se non ce lo dice i cambiali mi scusi pensavo che lei mi diceva se avevo delle scadenze per restituire i soldi no no lei doveva pagare delle cambiali rilasciate a chi al signor Guerino De Santis per che cosa per le attrezzature del punto vendita che aveva aperto del precedente quello prima del forno questo punto vendita dove era ha detto sempre all'Ariano si chiamava briciole e delizie si chiamava briciole e delizie che lei chiude e poi apre il forno sempre all'Ariano si poi il punto vendita non andava per cui quindi stabilito che lei c'aveva questo debito si chiede questo prestito io poi non ho capito che c'entra dopo casa Monica Salvatore niente che in poche parole siccome io ho tardato e un amico mi ha detto dice guarda che c'è questo amico si chiama Francesco mi ha detto guarda che c'è un amico mio Salvatore conosce sto Franco mandaci a parlare a lui mi ha presentato Salvatore Salvatore è andato a parlare con questa persona perché questo giustamente si stava arrabbiato perché non gli restituiva i soldi è venuto da me e mi ha detto guarda te va bene se gli dai mille euro al mese e io ho detto magari mi fai sta cortesia e questo mi ha fatto dopodiché siamo diventati amici tant'è vero che ha fatto anche la gresima a mio figlio si piano piano perché non ho capito bene cioè lei ha questo problema con questo Franco che si sta arrabbiando perché non ridà i soldi si giusto? si e perché lei lei lo conosceva questo Salvatore Casamonica prima di questo momento? no prima di questo momento non lo conoscevo e come mai pensa di rivolgersi a questo Casamonica Salvatore su un problema che non lo riguardava? perché io parlando con un amico mio per risolvere questo problema questo amico mio si chiama Francesco mi ha detto guarda io conosco un Salvatore Casamonica che è amico di questo Franco e che in poche parole mandaci a parlare a lui e vedi che con lui gli è da retta in poche parole e così è stato lui ci è andato a parlare mi ha detto io non è che te posso che non gli devi ridare i soldi i soldi gli devi ridare quanto gli puoi ridare al mese? e io ho detto va bene mille euro al mese e io ho detto va bene e mi sono messo a mille euro al mese e ho restituito il debito che avevo quindi Salvatore Casamonica secondo quello che dice lei oggi interviene solo per trovare un accordo far trovare un accordo tra lei e questo Franco ma i soldi che le erano stati prestati da questo Franco di chi erano? lei lo sa? di Franco di Franco? certo Franco le ha detto mai che erano soldi di altre persone? no 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 glielo dico perché lei ai Carabinieri 27 settembre 2018 dichiara questo ho ritardato nella restituzione di questi soldi e per questo Franco mi disse che doveva rientrare del debito perché non erano neanche soldi suoi ma di Casamonica Salvatore che mi presentò no no io questo non l'ho dichiarato non l'ha dichiarato? no possiamo mostrare il verbale è scarabocchiato da me però insomma è solo per capire se riconosce le firme in calcio le firme nel verbale e in calcio allora diamo atto che viene esibito il verbale 27 settembre 2018 nei confronti di quattro occhi Emanuele guardi un po' questo verbale vedi se riconosce la sua sottoscrizione ovviamente lei lo sa no? che qua si è appena impegnato a dire la verità si si come no quindi devi dire la verità e incorre in responsabilità penale se ti chiari il falso dove? dove devo? se lo ricorda quando è andato dai carabinieri? non ho capito mi scusi se lo ricorda quando è andato dai carabinieri? certo ma no il maggiore il capitano lo Jacopo eh vedi si ricorda pure i nomi si 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 come no voglio dove devo leggere? no no se Enrico non deve leggere deve solo vedere se le firme in calcio tra le firme in calcio c'è la sua firma si si queste sono firme mie certo ok me lo puoi ridare grazie ora in questo verbale le è stato riletto il verbale? certo non è stato riletto quindi in questo verbale in cui sono state messe le sue dichiarazioni che le è stato riletto si e che lei ha firmato si torno a dirle c'è scritto questo che sono le dichiarazioni che lei avrebbe reso ai carabinieri anzi tolgo il condizionale per quello che mi riguarda ha reso i carabinieri certo ho ritardato nella restituzione di questi soldi e per questo Franco mi disse che doveva rientrare del debito perché non erano neanche soldi suoi ma di casa Monica Salvatore che mi presentò lei sta dicendo in questo verbale che non è che un suo amico le dice che casa Monica Salvatore può risolvere questo problema perché è amico di questo Franco eccetera lei dice che Franco stesso siccome lei non gli dava i soldi gli dice guarda che mi devi ridare perché non sono neanche soldi miei ma sono soldi di casa Monica Salvatore allora guardi io forse o mi sono espresso male lì o mi sono espresso male qui la verità è che io mi sono fatto prestare questi soldi da questo Franco così almeno chiarisco un attimino le cose se lì ho detto che erano di Salvatore forse mi sono espresso male cioè che è intervenuto Salvatore per riprendere questi soldi è vero ma ha trovato una via per farmi risolvere questo problema cioè io non ho mai preso soldi da Salvatore tranne che in altre occasioni che poi ai Carabinieri ho specificato perché avevamo aperto un'attività insieme questo sì adesso non so se magari ho confuso le cose ma come fa a confondere sono due cose proprio diverse no nel senso che non è possibile che ci sia una confusione ammetto che è intervenuto Salvatore per risolvere il problema però mi sembra strano che ho dichiarato se l'ho dichiarato mi assumo la responsabilità magari forse ho sbagliato scusi mi ha detto anche che gliel'hanno riletto il verbale gliel'hanno riletto come mai nel momento della rilettura non ha fatto presente ai Carabinieri guardate che non è così che sono andate le cose ma sono andate diversamente forse perché mi sono espresso male chiedo scusa cioè non è che sto dicendo ma come fa a esprimersi male scusi eh ma sono due cose proprio diverse sono proprio due cose diverse cioè non è che c'è una circostanza che può essere malintesa malespressa male verbalizzata è proprio sono due cose diverse cioè in uno chi le presta i soldi è Salvatore forse lei non lo sapeva all'inizio lei sta dicendo lì di aver appreso che i soldi non erano di non mi parli sopra che i soldi non erano di Franco ma Franco le dice guarda mi devi dare i soldi perché non sono neanche soldi miei ma sono di casa Monica come si fa a confondere questa dichiarazione con il fatto che lei tramite altri fa intervenire Salvatore che con i suoi buoni uffici di amicizia verso Franco le risolve la questione perché veramente Salvatore poi me l'ha fatto conoscere un'altra persona che si ma che c'entra questo dico su questo punto che le ha sottolineato il pubblico ministero con la contenzione e la invito e le rinnovoli insomma l'ammonimento che lei deve dire la verità allora allora dico che no no non è che allora si deve coppescere cioè le cose come stanno non è che deve dire allora no no io infatti dico che comunque sia se ho dichiarato quello magari io ho pensato che fossero di Salvatore e ho detto che erano di Salvatore ma a me Salvatore ma non per qualche cosa perché Salvatore cioè lui sa quello che è e a me non interessa a me Salvatore è intervenuto dopo che io non ho restituito i soldi a questa persona e è venuto per riprendere questi soldi che io pensavo che erano di Franco lì magari ho detto che pensavo che erano di Salvatore ma assumo le responsabilità di quello che ho detto non mi sto tirando indietro dalle mie dichiarazioni no scusi lei ha detto che oggi si ha detto una cosa diversa ha detto che conosceva un tale Francesco si che la mette in contatto con Casamonica Salvatore perché lei parla con questo Francesco perché dice che ho sto problema e questo le dice guarda che sto Franco amico di Casamonica Salvatore magari lui ti può risolvere e magari sto Francesco sapeva che i soldi erano i suoi e io ho detto quello cioè quando succedono determinate cose che poi si intromettono più persone cioè è difficile poi comunque sia io quello che posso dire la verità è che mi sono fatto prestare questi soldi e che li ho restituiti questo è quanto non c'è un brado di dubbio e che è intervenuto Salvatore Casamonica è vero per risolvere questo problema sì ma lei dice una cosa specifica che questo Franco lei dice che i soldi erano di Casamonica Salvatore non che lei ha immaginato che cioè un conto è immaginare una cosa perché interviene un terzo e un conto è che qualcuno le dice i soldi sono di e lei dice questo in questo verbale scusi ma sul verbale non c'è il fatto che io e Salvatore perché sto facendo scusi quello che c'è sul verbale lei non deve interessare lei deve rispondere alla mia domanda la domanda è lei in questo verbale non dice che ha ipotizzato che i soldi fossero di Casamonica Salvatore perché si è messo in mezzo lei dice che questa circostanza la sa da Franco cioè quello che le presta i soldi che sono due cose diverse capisce un conto è immaginare un conto è sapere va bene no va bene me lo deve dire lei come sa due cose va bene confermo quello che ho detto sul verbale lo conferma perché le cose sono andate così o perché ci deve compiacere oggi per evitare i problemi io non devo compiacere nessuno come mai inizialmente aveva dichiarato una cosa diversa ma non è che ho dichiarato una cosa diversa io ho detto soltanto che hai intervenuto cioè di diverso ho detto che Franco mi ha detto che erano di Salvatore come mai oggi ci ha riferito una versione diversa rispetto da quella che ha verbalizzato che ora ci dice essere quella giusta di diverso ho detto soltanto che non sapevo che erano di Salvatore eh appunto che non è una cosa da poco voglio sapere perché all'inizio ha dato una versione diversa rispetto a quella che a quanto dice lei ora è invece quella che ha scritto nel verbale perché le occasioni dei soldi sono state due che posta le ho detto sul verbale poi troverà dove io ho dichiarato che Salvatore ha dato anche a me dei soldi lui personalmente ma non è una spiegazione del motivo per il quale oggi ha dato una versione diversa io le sto chiedendo perché all'inizio lei ha dato una versione diversa circa il fatto che questi soldi provenissero da casa Monica Salvatore questa era la domanda me la dà una risposta rispetto a questa domanda non mi ricordavo non mi ricordavo vabbè le valutere il fatto che i soldi provenissero da casa Monica Salvatore che cosa ha comportato rispetto a questa situazione del debito ha comportato il fatto che ho restituito questi soldi mi sono messo d'accordo con Salvatore che lui mi ha detto a me appunto la dichiarazione che ho fatto prima mi ha detto ce parlo io con Franco forse per non farmi sapere che erano le sue che erano suoi i soldi mi ha detto ce parlo io con Franco come glieli vuoi restituire questi soldi e quindi e quindi mi ha detto ti vanno bene mille euro al mese e io ho detto va bene da l'ora in poi lei ha più avuto rapporti con Salvatore Casamonica sì di che natura strettamente di amicizia cioè che cosa si sono come vuol dire le amicizie usciate insieme vi frequentavate sì siamo usciti insieme e tutto quanto poi lui è venuto a sapere il lavoro che facevo io e lui siccome io ero arrivato a fare una produzione di pane eccessiva nel senso che più di sei forni di pane dentro a un singolo forno non si possono fare perché ci vogliono tre ore ogni forno di pane più di sei scusi non l'ho sentito più di sei forni sei forni di pane in una bocca scusi in un forno non si riescono a fare nell'arco di una giornata e io ero arrivato a fare più di sei forni di pane per cui dovevo aprire un altro forno essendo amico con Salvatore Salvatore mi disse ma perché non lo facciamo insieme? questo avviene quando? circa credo quattro anni fa cinque anni fa quindi 2015-2016? sì e quindi? e quindi io ho detto va bene abbiamo preso abbiamo fatto una società che si chiamava il Paradiso del Golosone Paradiso? il Paradiso del Golosone scusi signor giudice del Golosone del Golosone poi è successo che in poche parole hanno fatto un'operazione all'Ariano che è stata denominata pane nostrum in quanto all'Ariano hanno rilasciato un bollino per il marchio del pane e io non avendo questo bollino mi hanno fatto chiudere il forno proprio nell'arco del tempo poi sono tutte cose che potete controllare perché sarà agli atti ho anche il processo adesso a novembre per cui mi hanno fatto chiudere il forno mi hanno fatto proprio chiudere l'attività è successo che nel frattempo io stavo allestendo quest'altro forno con Salvatore e lui mi aveva detto facciamo mezzi soldi per uno per affrontare le spese per comprare le attrezzature l'affitto e tutte le varie cose per poter iniziare l'attività quando lui ha saputo che mi hanno chiuso il forno ma non è che è stata colpa mia l'hanno chiuso perché il tribunale dei Velletri io non ero in regola con questo bollino mi ha detto a Manuel dice io questo forno se a te ti hanno fatto chiudere che ce faccio ha detto io i clienti non ce l'ho ha detto io se volevo fare un'attività con te è perché tu già avevi una mole di lavoro che poteva consentire far lavorare anche il secondo forno a quel punto Salvatore aveva già speso dei soldi come li avevo spesi anche io per comprare le attrezzature e queste cose e io ho detto dico io i soldi come ti ridò scusi aveva speso quanto? intorno ai 15.000 euro per spesi per quale per cosa? per comprare le impastatrici per comprare le tavole le spiane per comprare le attrezzature per diciamo per lavorare questa società il paradiso del golosone è stata costituita formalmente? sì 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 davanti a un notaio? certo le spese notarili chi le ha pagate? mezzo e mezzo Salvatore quant'era quell'importo se lo ricorda? mi sembra non vorrei errare mi sembra 1200 euro 1300 euro una cosa del genere una cosa a testa? no totali mi sembra dottore comunque per per questa iniziativa di aprire questo secondo forno che a lei risulti casa Monica Salvatore aveva speso circa intorno ai 15.000 euro vabbè lei qui parla di 12.500 euro giusto per essere preciso 12.500 forse le attrezzature poi escluso il notaio non mi ricordo 12.500 2.500 per il notaio e 10.000 per le attrezzature ma sono passati anche 7 anni non so vabbè no ma qui è solo per precisione qui è una cosa un po' diversa da prima però c'è i 100 euro magari pure se andiamo a seconda da comprare 12.500 quello che dichiara lei oggi ho detto 15.000 ho detto pure di più perciò figuriamoci un po' insomma non è che e quindi avendo speso questi soldi avendo speso questi soldi a me mi hanno fatto chiudere ok questo l'ho capito e potete controllare salvatore salvatore mi ha detto diciamo questa roba che ci facciamo e ho detto salvatore dico io che ti dico io mi ho i soldi da ritratte non ce l'ho perché non ce l'avevo veramente allora lui scusi ma anche lei aveva speso soldi certo pure io avevo speso e quindi stavamo a fare insieme e per cui ho detto non ho i soldi da restituiti e lui mi ha detto allora tieniti queste cose tu per quando riaprirai il forno magari se te si rompa l'impastatrice ce n'hai un'altra di ricambio e ha detto te tieni queste cose siccome lui sa che a me e all'Ariano mi conoscono un po' tutti infatti ho messo mezzo l'Ariano questa storia perché lui doveva fare dei lavoretti a casa a Vermicino ha detto c'ho da fare dei lavori trovi qualcuno che mi finisce da fare queste cose che c'ho da fare a casa e ti sconti così e sta gente apachi un po' come te pare per la cifra che tu mi devi ridare cioè faccio capire se ho compreso Salvatore Casamonica lei dice le attrezzature che abbiamo comprato te le tieni e i soldi che io ho speso per le attrezzature me li ridai pagando gli operai che lui doveva fare dei lavoretti a casa dei lavoretti a casa dove? a Via di Vermicino e lei glieli manda questi operai poi? si si chi erano questi operai? Simone Petrini eh Franco Fadda eh e poi che altro c'era? eh c'era un altro un signore rumeno che però il nome sinceramente non mi ricordo e che lavori dovevano fare lì? dovevano sistema una scala esterna falla in cemento dovevano fare il pezzo del giardino fuori e lavoretti che poi quando gli operai andavano là io gli dicevo lui quello che dovevano fare la mattina cioè io pagavo le giornate a sto operai un po' così diciamo una settimana gli pagavo una settimana gli ritardavo per levare questo debito e scusi gli ha pagati fino alla concorrenza dell'intero debito? si 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 che era abbiamo detto quindi 12.500 12.500 io pensavo 15 perché il notario pensavo che era a parte lei ha detto c'era un rapporto di di amicizia si lei ha mai saputo di altre case di Salvatore Casamonica? si di un'altra casa ad Anzio eh quando ci dice ci dice che cosa sa di questa casa? allora questa casa so che lui mi disse a me che era di un suo parente che se la stava passando poco bene e anche lì sono andati gli operai a fare i lavori eh si piano piano la prima volta che ha sentito parlare di questa casa da chi l'ha sentito parlare e quando? la prima volta che l'ho sentito parlare è quando lui mi ha detto che oltre qua a Vermicino doveva fare anche dei lavoretti in l'Anzio parli però al microfono eh se non la sentiamo eh no perché stavo guardando il dottore mi scusi si cerchi di vede in una posizione che può vedere entrambi grazie però cerchi di indirizzarsi al microfono e la prima volta ha detto che è finito da fare i lavoretti lì sempre insomma per raggiungere sta cifra che poi sicuramente è andata fuori ma quando io ho superato la cifra ha finito di pagarli lui gli operai perché quella di Vermicino tra Vermicino e Adanzio tra tutte e due ma non l'ho capito scusi allora io la prima volta che ho sentito parlare di questa casa Adanzio è quando Salvatore un giorno mi disse ma no devo fare i lavoretti pure a una casa di un mio parente che sta a Adanzio che sta a passare poco bene e forse me la prendo io ha detto e lì ci stanno da fare dei lavoretti e io ho detto va bene però Salvatore dico io non è che fino a dove devo arrivare con i soldi che ti devo restituire dopo di che daviti tu con gli operai e lui mi ha detto sì senza problemi scusi gli dice che c'era un suo un suo parente sì mi ha detto che era un suo parente un suo conoscente insomma cioè una persona vicina a lui un parente o un suo conoscente una persona vicina a lui che se la stava passando male e che quindi lui stava pensando di prendere di acquistare questa casa sì e quanto tempo quanto tempo chiedo scusa non è che ha detto che voleva acquistarla la casa ha detto doveva fare dei lavori per la casa di un suo parente adesso lei ha detto che no no ha detto che voleva acquistare è stata suggestiva la domanda perché voleva acquistare non l'ha detto il test che voleva acquistare forse si l'è sfuggita ma l'aveva detto già prima il test comunque ci sono le trascrizioni vedremo le trascrizioni io ho memoria e anche le colleghe hanno memoria che l'aveste detto già prima già prima della domanda del PM che ha ripreso quello che il test aveva detto comunque ce l'ho precisa adesso nel modo più compiuto possibile scusi le ha detto cosa che c'era questo parente in difficoltà parente parente o conoscente persona vicina una persona che ci stava vicino se la stava passando poco bene e che c'era possibilità di poter acquistare questa casa a basso prezzo cioè a basso prezzo nel senso perché era tutto era tutto da fare in poche parole signor giudice cioè tutto da fare non era una casa abitabile c'erano da fare molti lavori cioè dei lavoretti per cui non c'erano i finestri non c'era era una casa proprio così per cui non credo che sia costata non so quanto poteva costare valore del mercato e mi ha detto dice se qualche operaio lo possiamo mandare anche giù e io ho detto per me è indifferente dico però io arrivo a pagare fino alla cifra che ti devo restituire dopo di che con gli operai ce la vedi tu scusi questo discorso le viene fatto la prima volta che lei sente parlare di questa casa a quanto tempo fa? no mica subito la prima volta che abbiamo parlato è uscito tutto questo la prima volta è uscito soltanto che doveva fare dei lavoretti poi in seguito parlando mi ha detto dice vorrei perché questo sta passando male forse c'è la possibilità di acquistarlo no la prima volta non mi ha detto che c'era la possibilità di acquistarlo la prima volta mi ha detto che c'erano da fare dei lavoretti a una casa ad Anzio poi che poi da quando me l'ha detto a quando sono andati a lavorare in realtà ad Anzio saranno passati un annetto buono cioè un anno buono è passato per cui è stata una cosa che all'inizio mi ha detto così ha detto nell'eventualità forse dico che me frega tanto o ti vago gli operai che fanno i lavori là o ti vago giù dico a me non mi cambia niente però dalla prima volta che me l'ha detto cioè sarà passato un anno un anno e mezzo anche cioè era quasi estate perché ha detto casomai la sistemiamo e se ci vogliamo andare anche a me mi ha invitato ha detto ci possiamo andare sabato e domenica con le famiglie non lo nascondo di pari verità scusi quando glielo dice che c'era la possibilità di acquistarla da parte sua? e questo dopo quando hanno cominciato a fare i lavoretti dopo un anno un anno e mezzo mi ha detto dice se riesco a trovarci un accordo vorrei concludere magari però questo poi sono cose loro non lo so la prima volta che sente parlare di questa casa quanto tempo fa è? dottor lei mi dice sono passati sei anni cioè io moro il giorno esatto comunque sia dopo dopo che a me mi avevano fatto chiudere il forno e dopo che già gli avevo mandato gli operai giù a Vermicino per cui saranno sei anni fa forse ma forse poi dal momento che ci sono andati gli operai saranno sette no sei saranno cinque anni fa allora te l'ha vista questa casa? sì sì quando? la prima volta che siamo andati che ho portato giù gli operai per vedere i lavoretti che dovevano fare e quando era? quattro anni fa forse quattro anni fa 2016? 2016 no perché stavo in carcere eh no 2016 le dico la verità prima allora 2015 allora mi chiedete se conosca sempre lo stesso verbale 27 settembre 2018 mi chiedete se conosca l'altra casa di Salvatore in Anzio e vi rispondo di sì l'ho vista per la prima volta nel mese di luglio di quest'anno che anno era? di quest'anno era il 2018 2018? eh sì l'ho vista per la prima volta nel mese di luglio di quest'anno quando Salvatore mi ha chiesto se potevo rimediargli qualche ragazzo per fare dei lavori di pitturazione dato che aveva quasi finito di ristrutturarla e così gli ho mandato un ragazzo mi sono sbagliato con gli anni però la verità è quello che io ho detto è questo conferma la prima volta che la vede nel luglio di 2018 quando Salvatore gli chiede se può mandare qualche ragazzo a fare i lavori perché aveva quasi finito di ristrutturare esatto però anche perché io quello che era successo prima non lo potevo sapere perché stavo in carcere ma noi della casa ne avevamo parlato prima esattamente io gli ho detto che era passato un anno un anno e mezzo circa cioè da quando sono andati i operai quanto al momento in cui lei parla della casa proseguendo lei dichiarà Salvatore mi parlò di questa casa circa 4-5 anni fa dicendomi quindi 2013-2014 dicendomi che la stava comprando se non sbaglio da un suo parente o un suo amico che era in difficoltà economiche è quello che ho detto infatti lo conferma che la prima volta è 4-5 anni prima rispetto al verbale è quello che ho detto sì infatti io ho detto che da quando ne abbiamo parlato sono passati anni prima che poi hanno mandato questi operai giù ho detto la verità perfetto era solo per puntualizzare i tempi il lei gli rimanda gli operai? sì sì chi gli manda? lì è andato Simone Petrini e Franco Fada lei c'è stato in questa casa? sì io l'ho detto anche prima a luglio del 2018 sì solo Fada e Petrini? Fada e Petrini no poi c'è andato anche abbiamo trovato lì insieme a lui un mulettista che ha tolto i calcinacci no se lei ha indirizzato altre persone per questa casa di ansia io personalmente no che poi magari abbia potuto presentare qualcuno a Salvatore e ci si è messo d'accordo lui c'erano delle inferriate a questa casa? inferriate? eh c'erano ma Salvatore le aveva fatte toglie lei è un tale Orsolini Marco lo conosce? sì sì chi è? è un fabbro di Velletri come si chiama? scusi proprio come si chiama? Orsolini Marco Orsolini Marco si sa se questo Orsolini abbia mai avuto a che fare con questa casa di ansio? sì perché io l'ho presentato io a Salvatore ma si sono messi d'accordo loro eh le ha presentate per quale motivo? perché doveva fare dei lavori a casa d'ansio lavori di? questo cioè mi sembra che doveva fare gli infissi o il portoncino una cosa del genere lavori di fabbro comunque sia senta la può descrivere questa casa di ansio vista che c'è stato? beh sa dove si descrive dopo che che ci hanno lavorato adesso no dopo che ci hanno lavorato quello che lei ricorda quando l'ha vista allora è un vialetto c'è un cancello c'entra c'è un vialetto c'è un pezzo di terreno che gira fa tipo tipo a du così e c'è l'entrata sulla sinistra c'è un salone ci sono delle scalette che vanno sopra dove ci sono due camere e un bagno che colore è la facciata? quando l'ha vista lei ovviamente poi non se lo ricorda questo non mi ricordo comunque era una cosa è certa era graffiata cioè nel senso quel tipo di vernice non so se c'è presente non era liscia in poche parole lei intende l'intonaco? no 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 l'intonaco signor giudice è proprio un tipo di vernice che si usava tanti anni fa quello tipo graffiato tipo se ci passasse le mani sì no intendo per la parete esterna però la parete esterna le pareti perimetrali la facciata mi ha chiesto il pubblico ministero la facciata senta io le voglio mostrare un fascicolo fotografico si tratta di un fascicolo fotografico approntato dal nucleo investigativo del gruppo di frascati il carabinieri gruppo di frascati composto complessivamente da dieci foto disposte due foto per pagina se mi autorizza Presidente volevo mostrarlo al test sì lei vede queste dieci foto e si ferma alla foto numero dieci non scorra dietro perché dietro c'è una leggenda faccia girare a lui no no che faccia girare a lui basta che non legge l'ultimo foglio no no assolutamente lo bloccerei va bene alla foto dieci si ferma mi dice se vede queste foto attentamente e mi dice se riconosce qualcosa quindi viene esibito al test il fascicolo fotografico composto da dieci fotografie no no questo non ricordo ma c'è un problema che non forse c'è stato qualche questa è l'entrata come ho detto la prima il vialetto che l'avevo detto io della casa Anzio riconosco il vialetto che l'ho detto della casa Anzio foto due è il cancello dell'entrata della casa di Anzio sempre foto tre sempre il vialetto no scusi scusi siamo andati avanti sì scusi foto due è il numero civico sempre di questa casa di Anzio di cui abbiamo parlato oggi credo di sì perché il numero civico io non lo so va bene andiamo avanti la foto numero tre è il cancello dell'entrata la foto numero quattro non lo sa no non capisco proprio che cosa sia foto cinque e sei la foto cinque è il vialetto che l'avevo detto quella che fa U cioè che lei dice c'è una cosa che fa U sì dietro foto numero sei questo credo che sia la parte dietro sempre di questa casa di Anzio sì sempre di quella ma lo so io lo devo far specificare la foto sette è diciamo è la parete davanti diciamo la parte dietro dove l'ho detto che fa U la foto otto è il giardino che l'avevo detto la foto nove è sempre il giardino sono tutti uguali e la foto dieci queste qua io non le avevo mai viste va bene comunque parliamo di tutte foto di questa casa di Anzio di Salvatore Casamonica ho capito bene? sì no di Salvatore Casamonica io se l'ha acquistata non lo so cioè a me è quello che mi aveva detto lui poi se l'ha acquistata o no io non lo so allora la foto della casa di Anzio dove lei ha mandato operai su richiesta di Salvatore Casamonica sì è corretto? sì sempre per estinguere il debito che avevo io con lui viene acquisito questo verbale questo fascicolo lo vuole produrre il pubblico mistero? sì certamente no così lo mettiamo nel verbale ci sono osservazioni delle parti nessuna quindi viene acquisito il fascicolo fotografico esibito al teste al fascicolo dibattimentale scusi giusto per avere certezza di chi stiamo parlando io vorrei mostrargli anche un altro album fotografico composto da cinque foto presidente sempre redatto dal nucleo investigativo del gruppo Carabinieri Fascati sì il matto che tratta sia un fascicolo fotografico riporta effigie di persone quindi viene esibito al test sempre senza fargli vedere l'ultima pagina prego la prima foto le comunicano il rientro dell'imputata di Silvio grazie prego 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 la prima foto è Salvatore Salvatore Casamonica sì Salvatore Casamonica di cui abbiamo parlato oggi sì quello con cui lei ha avuto i rapporti di cui ci ha parlato oggi sì ma non c'è c'avevo proprio un rapporto d'amicizia ho detto ha fatto la gresima a mio figlio per cui c'è lo conosco proprio bene non lo so però era per capire se era la persona sì sì andiamo avanti e lei è la moglie Stella la carissima amica pure lei cos'è la foto numero 2? la foto numero 2 questo è uno foto numero 3 no non ce l'ho presente 4 e 5 la foto numero 4 questo è l'idraulico Simone Petrini foto numero 5 non so chi sia va bene grazie Presidente ovviamente chiedo l'acquisizione anche dando atto che effettivamente era foto numero 1 vediamo allora a chi corrispondono queste fotografie la foto numero 1 corrisponde all'imputato Casamonica Salvatore è aprile 76 la foto numero 2 a Casamonica Giacomina di Tastella la foto numero 3 la foto numero 3 non l'ha riconosciuta è giusto la foto numero 4 che è quella che è riconosciuta Petrini Simone quindi il fascicolo viene acquisito non l'osservando in altre parti agli atti prego io ho terminato Presidente grazie sentiamo parti civili hanno domande no la difesa prego grazie buongiorno sono l'avvocato Naso non ho capito mi scusi sono l'avvocato Naso il difensore di alcuni degli imputati senta ha fatto più volte riferimento al suo rapporto di amicizia con Salvatore poi se non ho capito male ha detto una volta ha battezzato una volta cresimato ha fatto la cresima a mio figlio quattro occhi Gabriele quindi è un'amicizia solida vera sì sì certo ha cresimato mio figlio in chiesa davanti a tutti credo che siano amicizia stretta eh sì lo chiedo a lei certo certo senta in relazione a quella somma di 12.000 rotti euro che ci ha detto Salvatore le ha proposto di restituirgliela pagando lei i lavori di ristrutturazione o comunque lavori di intervento nelle due abitazioni sì ma lui lui avvocato mi ha fatto questa cosa cioè nel senso a livello di amicizia perché io non c'avevo i soldi da restituirle perché lui mi ha detto senza che Tempicci magari è andata a fare questi soldi da qualcun altro ha detto io devo fare dei lavoretti ha detto visto che all'Ariano perché penso che è una cosa scontata cioè nei paesi gli operai costano molto di meno che a Roma per cui mi ha detto visto che magari c'hai tu conosci un po' tutti all'Ariano mandami qualcuno giù a farsi i lavoretti per la somma che mi devi restituir se poi c'è qualcosa di più i pago io gli operai la differenza perfetto allora i lavori nella prima abitazione quella di Vermicino sì sono stati lavori consistiti in cosa più precisamente ma guardi è stata una scala di cemento esterna sì e la pittura mi sembra di due camere una cosa del genere e fuori abbiamo fatto una cosa del cemento dove doveva mettere in serbatoio dell'acqua e non erano cose eccessive cioè quello che c'era da fare per cui e la quantificazione diciamo dell'importo di questi lavori l'ha fatta lei? no l'avete fatta insieme? io voglio operai a giornata io voglio cioè non è che vedete mi mettevo d'accordo con questi amici magari gli dice quanto volete al giorno 60 euro al giorno se lavoravano 10 giorni mescalavo 600 euro tutto qua quindi è stata diciamo lei a calcolare il momento in cui aveva raggiunto l'importo da restituire? cioè io più che altro gli operai mi hanno detto quanto volevo uno al giorno perché certo se andava in giardiniere a taglia l'erba vi faccio un esempio se prendeva 20 euro se andava a un pittore magari se ne prendeva 100 sì sì questo mi è chiaro dico però lei quando è che ha detto a Salvatore guarda siamo arrivati a 12.000 le rotte quindi basta d'ora in poi paghi tu il resto perché l'accordo ci ha detto lei era sì 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 come lo voglio sì 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 e quando è stato il momento dopo i lavori di Vermicino o ancora nei lavori di intervento ad Anzio tutti e due insieme erano avvocato cioè nel senso no tutti e due insieme mentre lui faceva questi lavori a Vermicino lui prima molti cioè tempo prima ne ha detto due ma aveva detto questa cosa ad Anzio stava arrivando l'estate e mi ha detto dice guarda qua a Vermicino mi fermo perché intanto guarda una sistemata perché forse mi riprendo sta casa forse infatti ho detto anche al pubblico ministero che non è che le ha detto casa di Salvatore io ho detto io non lo so se l'ha acquistata quella casa sì 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 lui ha detto finisco da fallare dice così ci possiamo andare a passare pure il sabato e la domenica insieme ma le ripeto è stato lei a dire a Salvatore guarda fatto anche questo intervento siamo arrivati con i conti sì sì aspetti un attimo se no non ci capiamo sì 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 è stato lei che ha detto a Salvatore guarda fatto quest'ultimo intervento io ho esaurito il mio debito con te sì sì e lui mi ha detto vabbè compà perché lui mi chiamava compaio mi ha detto vabbè compà se c'è stata qualche altra cosa ce la penso io ce la penso io e le risulta che poi Salvatore abbia pagato i due operai che lei ha mandato ad Anzio una volta che lei aveva esaurito il suo debito penso che l'abbia perché lei mi ha detto poi di quello ci pensava lui ci ha pensato Salvatore ai due operai penso che sì penso che l'abbia pagato ma lei lo sa cioè non ho la sua deduzione quello che lei sa per certo per certo non lo posso non posso se gliel'ha dati tutti se ancora gli deve dare una differenza questo non glielo lo so di signor giudice cioè per quanto riguarda io io li ho pagati tutti ho estinto il mio debito poi gli accordi che ha preso lui con gli operai comunque credo che li abbia pagati insomma non credo che le risulta che Salvatore di lì a poco sia stato sottoposto a una misura custodiale sì stava ai domiciliari e sia stato arrestato ai domiciliari ai domiciliari o in carcere non mi interessa io so dell'arresto quando l'hanno arrestato no perché lei quando è stato interrogato dai carabinieri su questo punto è stato preciso cioè ha detto che lei si trova in difficoltà nei confronti di Marco Marco Orsolini è la persona che prima le ha ricordato il pubblico ministero quello che avrebbe fatto interventi sulle finestre difficoltà perché aspetti mi faccio finire se no non mi comprende perché doveva essere ancora pagato ma Salvatore è stato arrestato difficoltà a livello di vergogna perché glielo avevo presentato io questo ah sì però quindi a lei risulta che questo Marco Marco Orsolini non è stato pagato in quanto Salvatore prima di pagarlo è stato arrestato e beh si è stato arrestato io parlavo fino a che c'era Salvatore che ha pagato gli operai e poi se lui gli è rimasto dei soldi a Marco Orsolini perché è stato arrestato come faceva a Piagli ma infatti guardi a me ho letto questa dichiarazione solo per farle ritornare quello in mente quello che lei aveva dichiarato ai carabinieri è così me lo conferma ora che glielo ho letto sì sì però a livello di difficoltà parlo a livello di vergogna perché certo perché lei l'aveva presentato certo per quello senta poi prima ha fatto anche un riferimento allo stato di questa casa di Anzio sì e lei ha detto che era una casa che necessitava di ristrutturazione sì perché c'era il pavimento che era rotto fuori era pieno di erbacce era una casa proprio cioè non è che era una casa da rifà però comunque sia non è non ci si poteva neanche entrare per le erbacce infatti abbiamo trovato un bobcat che mi ricordo aveva preso 100 150 euro una stupidaggine e è venuto un giorno soltanto e qua a Ruspa ha tolto tutte le erbacce perché non si poteva entrare neanche dentro casa ah addirittura non si poteva entrare quindi hanno dovuto chiamare c'erano le erbacce arte così e poi ha fatto anche riferimento prima al fatto che mancassero le finestre si non c'erano c'erano le tapparelle quelle vecchie una volta tutte rotte ma tant'è vero che i vicini i vicini questo me lo ricordo perfettamente dissero a Salvatore speriamo che qualcuno ci viene a vita perché stiamo sempre con l'incubo che entrano le persone dentro casa perché in quella zona dicono che è pieno di extracomunitari che durante il periodo invernale sanno che in poche parole la maggior parte delle case a mare ce l'hanno tutte le persone di Roma e ce vanno soltanto l'estate per cui queste persone durante l'inverno se ne appropriano e loro dice per noi è sempre una cosa no pericoloso stanno sempre qua la paura capito e perciò le finestre erano tutte scavicchiate erano perché c'entrava la gente capito le finestre erano tutte scusi che non ho proprio capito scusi il termine signor giudice scavicchiate cioè nel senso aperte forzate c'erano dentro mi ricordo la prima volta ci siamo entrati c'erano tutti i residui di scatolette di tonno panini bottigliette da se qualcuno ci andava a dormire l'aveva occupata occupata si va bene la ringrazio altre domande si è presente grazie avvocato Corroppoli per Bellardini Alessandro per Bellardini Alessandro senta io le devo fare alcune domande sempre in merito a questa alla più volte ricordata casa di Anzio in parte me l'ha fatta la collega che mi ha preceduto senta lei a un certo momento dice parlando con Casamonica Salvatore dice l'ha coinvolta in questo in questi lavori di questa casa di Anzio per fare appunto dei lavori per aiutare un parente in difficoltà parente o conoscente parente o conoscente la domanda mia è questa ha poi saputo questo chi fosse questo parente o conoscente e se del caso l'ha mai conosciuto ne ha conosciuto quantomeno il nome il cognome avvocato credo già di aver risposto perché io ho detto già che io non so neanche se l'ha acquistata per cui no quindi lei non sa se poi l'ha acquistata no assolutamente senta quindi è corretto dire che quando lei ha visto la casa per la prima volta mi corregga se sbaglio era una casa che non era abitabile assolutamente no grazie non ho altre domande sì non ho altre domande una domanda ascolti ma lei ha detto di averla vista questa casa per la prima volta quando me lo ripete allora la prima volta che l'ho vista questa casa era allora nel 2018 come mi ha detto il pubblico ministero ho mandato giù delle persone sarà stato credo 2015 prima che mi restassero o subito dopo o 2017 ma l'ha vista scusi perché mi era parso così di capire ma forse abbiamo capito male che era già stata ristrutturata quando l'ha vista lei no 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 signor giudice non l'ho detto io questo io quando ho visto quella casa la prima volta ho appena detto che non si poteva neanche entrare quindi lei l'ha vista prima dei lavori di ristrutturare stasso ma di manutenzione o di che si voglia prima dell'intervento edilizio sì sì ok però non ricordo esattamente quando io tra io sono stato 11 mesi detenuto per cui io sono uscito a luglio 2016 mi sembra no mi hanno arrestato il 2 luglio 2016 perché c'erano i mondiali giocavo in Italia non mi ricordo era di sabato e sono uscito dopo 11 mesi per cui o l'ho vista prima del 2016 o l'ho vista nel 2017 ho capito senta quindi da casa non era stata ancora toccata da nessun intervento no signor giudice per entrare le do la mia parola che per entrare abbiamo dovuto il cancello l'abbiamo dovuto quasi sollevare per le troppe erbacce che c'erano vabbè questo è chiarissimo che c'erano delle erbacce nel cortile ma per il resto le condizioni della casa qual'erano a parte che le erbacce che chiaramente impedivano l'accesso pietose perché che c'aveva di pietoso pietose significa che c'era qualcuno abita dentro ho detto c'erano scatolette di tonno panini le finestre tutte aperte mi faccia capire lo stato però dell'interno non c'erano anche i vater erano smontati era una cosa proprio tutta sporca muffa una cosa pietosa pietosa proprio ma lì diciamo erano forzate le tapparelle delle finestre ma gli infissi c'erano in questa casa? c'erano ma è come se non ci fossero perché qualche vetro era rotto qualche finestra era forzata era signor giudice era come una casa che era stata occupata senta sicuramente è una mia disattenzione ma mi ripete un attimo lei quando esattamente l'ha conosciuto Salvatore? sempre 8-9 anni fa e quindi la cresima per suo figlio sua figlia quando è che l'ha fatta? l'ha fatta mio figlio ha fatto c'ha 18 anni la cresima l'ha fatta a 14 anni 6 anni fa ma quindi l'ha fatta prima o dopo diciamo così del rapporto con Franco e del discorso delle cambiali dell'intervento quindi la cresima no il rapporto di amicizia quando è che nasce? è nato prima mica che poi fa la cresima una persona che non conosceva quindi la cresima l'ha fatta quando? mi ha detto mio figlio ha fatto 18 anni a novembre per cui ha fatto la cresima 4 anni fa saranno nel 2016 sì nel 2016 se fa a 14 anni la cresima signor Giuse mi sembra faceva la terza media ho capito quindi rispetto al suo problema del debito con Franco che invece si colloca in che periodo? quello prima da là che Salvatore mi ha dato una mano io non dico una mano nel senso perché è stato buono perché non è che sto dicendo una mano per giustificare da quando mi ha aiutato a risolvere questo problema è nata un'amicizia siamo andati qualche volta a cena sento un po' ma lei prima il Pubblico Ministero le ha contestato quelle diverse dichiarazioni siamo stati a lungo su quel passaggio all'esito diciamo di queste contestazioni lei quindi quale tesi ribadisce in questa sede? io ho confermato al Pubblico Ministero che evidentemente ho fatto mi sono espresso male qui confermo quello che ho detto lì quindi lei ha scoperto in un momento successivo che i soldi quindi glielo aveva dati Franco tramite Salvatore cioè che i soldi che venivano da Franco in realtà erano Salvatore io sto piacere sono andato a chiederlo a Franco perché Salvatore neanche lo conoscevo io Salvatore lì in quell'epoca neanche lo conoscevo quindi lei ha preso in un momento successivo che in realtà quei soldi provenivano da Salvatore? sì quando lui è venuto io ho pensato che fossero i suoi quei soldi no ha pensato lei dice che gli ha detto Franco non è che l'ha pensato sì perché ho dichiarato quello e giustamente non è che posso dichiarare il contrario di quello che ho dichiarato lei deve dire la verità non è che deve dichiarare una cosa per compiacere nessuno però deve dire la verità ho confermato come c'è un contrasto confermo quello che ho detto confermo la dichiarazione senta lei ha detto che è stato in carcere per quale reato? per mancato mantenimento quindi ma era un'esecuzione pena? aspetti aspetti dottore c'è da fare una precisione io questo reato già l'avevo scontato io ho scontato credo che sia uno pochi casi io ho scontato questo reato di 11 mesi e 17 giorni in affidamento ai servizi sociali ah ecco non è stato in carcere no no sto finendo ah prego 11 mesi e 17 giorni li ho scontati tutti quanti all'ufficio web con la dottoressa Vitale esito positivo fine della pena mi scarcerano passano due anni per una denuncia che la mia ex moglie quindi sempre per un ammesso mantenimento? sì ma la denuncia me l'ha fatta nel periodo in cui io stavo in affidamento per cui dopo due anni di libertà mi chiamano i carabinieri per notificarmi un foglio e non mi fanno più uscire dalla caserma perché mi viene revocato l'affidamento mi portano al carcere quindi lei aveva scusi una pena definitiva aveva avuto l'affidamento in prova ai servizi sociali questo evento questa successiva denuncia determina la revoca e quindi lei va in carcere e mi hanno fatto fare altri 11 mesi e 17 giorni tutti in carcere scusi la pena definitiva a che condanna era? 100 grammi di acis ah c'entra niente allora l'affidamento ah ho capito quindi la vicenda all'ammesso mantenimento diciamo ha determinato la revoca della condanna esattamente però per droga non per violazione gli obblighi di assistenza familiare quindi per droga ed era una pena quella per la droga scusi che pena era quella per la droga era stato condannato? 11 mesi e 17 giorni ah 11 mesi e 17 giorni di reclusione va bene e tra l'altro poi io nella denuncia sono andato assolto perché mio figlio ha dichiarato che i soldi dava a lui per cui mi sono fatto due volte la stessa pena una era giusta quella non è che si è fatto due volte diciamo sono meccanismi no l'ho fatta due volte vabbè sono un po' di meccanismi particolari senta un attimo ma scusi lei ha detto non sa mi pare così no? anche oggi dici io non so poi se l'ha comprata la casa sì è vero però lei nel momento in cui è andata a fare scusi che ha trovato gli operai per fargli fare questi lavori in quel momento visto che c'era conoscenza mi pare di capire già con Salvatore c'era già amicizia se non lo sa se era sua o non era sua quella casa no no infatti ho detto signor giudice che lui quando mi ha parlato di questa casa la prima volta mi ha detto che forse lavorerà acquistare mi seguo nel ragionamento però lei ha detto questo all'inizio poi dice non so quindi perché lui mi ha detto così ma io le dico nel momento in cui poi sono stati fatti i lavori all'interno della casa e lei quindi ha portato gli operai per Salvatore giusto? sì in quel momento visto che eravate amici gli aveva fatto il padrino al figlio comunque so ormai già c'era un'amicizia non è venuto a conoscenza se l'aveva acquistata poi alla fine o no? no signor giudice ma lui parlava per altri faceva questi lavori per altre persone? no lui non parlava per altri diceva che la voleva sistemare e tant'è vero che l'ho detto mi ha invitato anche a me mi ha detto se riusciamo a finirla quest'estate ci andiamo cioè sostanzialmente agiva come se fosse il proprietario come se la stessa ristrutturata sì cioè la stava ristrutturando per sé o la stava ristrutturando per altri? signor giudice questo io non gli posso dire è come un geometra che seguì i lavori di un'altra casa ma che se Salvatore Casamonica è il geometra? no è un direttore dei lavori non mi sembra no le sto dicendo però io non posso dire se io sapevo se io le sto chiedendo sì ai suoi occhi e allora ci fermiamo un attimo e allora ci fermiamo un attimo vabbè comunque la posizione di Giuseppe Casamonica non è toccata da questo aspettiamo un attimo che si ripristini il collegamento è un certo dice grazie 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 Grazie. Il forno. Cioè, tornando al punto su cui la stavo esaminando, sostanzialmente le chiedevo, ma lei poi dopo l'è venuta a sapere se l'aveva acquistato o no a questa casa? Quando gli ha portato gli operai? No. No. Ma lui le ha più detto che parlare, che faceva questi lavori per conto di altre persone? No, no, neanche questo mi ha detto. No, ha detto che ci andiamo al mare insieme o no? Sì, mi ha detto che se riusciamo a sistemarla quest'estate ci andiamo a passare pure il sabato e la domenica insieme. Vabbè, senta una cosa, ma il problema è il discorso di quel debito che lei aveva iniziale, quello per cui aveva delle cambiali da onorare, poi l'ha pagato quel debito? Sì, sì. L'ha onorato tutto? Sì, sì. Senta, poi lei prima ha detto che aveva questa attività di fornaio, no? Sì. Aveva questo forno, ma non ho capito bene, da quando è che ce l'ha questo forno? Il forno io ce l'ho da sette anni. Perché prima ha detto otto, poi il PM l'ha detto 2010, ora sono sette, siamo nel 2020, da quando è che c'è questa attività economica? No, sono sette, otto anni, dottor, cioè io adesso se il sapevo mi sarei portato lo forno. No, ma non se lo ricorda? Non sa da quando ha cominciato un'attività. C'è lo statuto, c'è lo statuto a casa, se vuole chiamando quando è stata... No, va bene, nel senso mi sembra strano che non ricordi un particolare. No, no, perché poi tra l'affidamento e la detenzione, l'ha sempre mandato quasi avanti mia madre, perché io su otto anni diciamo che... Ma e lei risulta titolare di questo forno, di questa attività economica o no? Non ho capito, mi scusi. Risulta lei il titolare di questa attività economica? No, no, è mia madre. È sua mamma? Sì. Quindi il forno non è suo? No, no, è di mia madre. Però è lei che ci lavora? Sì, io ci lavoro. Quindi sua mamma è soltanto l'intestataria? No, mamma è la proprietaria, io lavoro insieme a un'attività di famiglia. Ma perché è un forno di famiglia? Sì. Quindi lei lavora nel forno di famiglia, sua mamma risulta ancora ad oggi la proprietaria di questo forno? Sì. No, capito, all'Ariano? Sì. All'Ariano. Quindi diciamo quando lei conosce Salvatore, questa sua attività economica già ce l'aveva? Sì, sì. Sì, ho capito. Va bene, non ci sono altre domande per il collega. Io ti chiedo scusa, se posso, se mi senti. Se non c'è il riesame del PM, io credo che l'esame termini qui, Presidente. In realtà era, volevo fare un'opposizione alla domanda che ha fatto il Presidente, ma poi ho taciuto per, così, per... Non ho capito, è una domanda sulla base delle mie domande? Sì, perché è fatto... ha indotto il test su una domanda in particolare che ha fatto lei a fare una valutazione circa il fatto... No, io gli ho chiesto se sapeva. Ha detto se è comportato come se fosse il proprietario. Ma però sta facendo una questione su una domanda che è stata fatta dal Presidente. Aspetta un attimo, pubblico ministero, per pazienza. Ha detto, lei è sembrato, ha avuto la sensazione che si comportasse come se fosse il proprietario, Casamonica, Salvatore. No. Non è una valutazione che... No, non è una valutazione. Gli ho chiesto se era il comportamento ottenuto da Salvatore, c'erano gli elementi da cui si poteva desumere che fosse il proprietario. Quindi, o agisse per altri. Sempre con la base di elementi e comportamenti concreti, Avvocato. Va bene, può accomodarsi, può andare. Possiamo fare cinque minuti di sospensione, Presidente? Eh sì, volevo un po' capire perché abbiamo due altri testi, no? Due, sì. Eh, quindi possiamo, mi pare solo due oggi, giusto? Quindi oggi, lei può andare, si può accomodare? Solo due più tre. Due più tre, ne abbiamo tre o due ancora? No, diciamo, erano cinque totali, se ne sono rimasti due. Eh, quindi dico, possiamo finire presto oggi a questo punto, verosimilmente. Non credo siano più lunghi dell'ultimo testo, quindi più o meno questo è il testo. Può andare, vabbè, facciamo però cinque minuti di sospensione per venire incontro alla sua esigenza. Se no, direi a questo punto andiamo avanti e poi chiudiamo l'udienza senza fare la pausa, però non so, perché credo che finiremo abbastanza ragionevolmente. Va bene, allora cinque minuti e poi ci rivediamo. Andiamo l'udienza. Allora, chi facciamo entrare? Petrini. Petrini. Buongiorno. Sì, si accomodi qua. Allora, buongiorno, si impegna a dire la verità leggendo ad alta voce questa forma di giuramento, prego. Con sapere della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla quanto mia conoscenza. Allora, come si chiama? Petrini Simone. Dove è nato e quando? Sono nato a Roma il 15 gennaio del 1978. Prego, pubblico ministero. 78, sì. Sì, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Senta, lei che attività lavorativa svolge? Termo idraulico. Ora, prima avevo una ditta individuale, poi purtroppo si chiamava i tacchi impianti, poi purtroppo è andata male. I tacchi impianti, poi purtroppo non è andata bene e adesso sono assunto a tempo determinato presso una ditta che si chiama Alfredo Cecchini SRL e faccio manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento a Villa Margherita, a Piazza Bologna, via di Villa Massimo. La ditta itali impianti? I tacchi impianti. I tacchi impianti fino a quando è stata operativa? È stata operativa fino al 2015, non ricordo, non ricordo bene, era la mia comunque, di Petrini Simone. Sì, lei ricorda di essere stato sentito dai carabinieri? Non ho capito, chiedo scusa. Lei ricorda di essere stato sentito dai carabinieri? Sì, sì, di Frescati, sì. Allora, in aiuto alla sua memoria, quando è stato sentito dai carabinieri, ha dichiarato questo, fino al mese di gennaio dell'anno 2016 aveva un'azienda denominata itacchi impianti. Esatto, alla 16, chiedo scusa, ho sbagliato io. Questa assunzione, invece, di cui ha parlato, ha tempo indeterminato presso questa ditta, quando è avvenuta? No, no, determinato. Determinato quando è avvenuta? L'assunzione? A novembre dell'anno scorso. Quindi novembre 2019? Sì. Tra gennaio 2016, fino al momento in cui lei è stato assunto a tempo determinato presso questa ulteriore ditta, lei che cosa ha fatto? Io ho fatto piccoli lavori di manutenzione presso privati e basta, niente di che, fin quando hanno risposto alla mia richiesta all'azienda con cui sono stato assunto ora, mi sono arrangiato. Quindi ha continuato comunque a fare questa sua professione? Io lavoro, certo, certo. Io ho iniziato con mio padre, quando avevo 14 anni, a fare il termo idraulico, poi papà nel 99 è morto e io l'ho portato avanti, fin quando insomma poi non è andata male. Senta, lei è un signore che si chiama Emanuele Quattrocchi, lo conosce? Sì, è uscito prima. Lo conosce da quanto tempo? Io lo conosco perché praticamente prima vivevo a Roma, poi mi sono trasferito all'Ariano e quindi l'ho conosciuto alle scuole medie, non facevamo la stessa classe, però ci si incontrava all'uscita o comunque all'entrata e poi dopo quando uscivi il pomeriggio ci si vedeva in piazza, tutto qui, ma non è un'amicizia stretta. Mi ha passato anche qualche lavoro quando avevo la ditta. Che lavori le ha passato? Tra l'altro il lavoro che... Che lavori le ha passato i Quattrocchi? Ma col papà, magari mi ha chiamato per il papà suo che ha problemi con la caldaia, io gli facevo una regolare manutenzione, tutto qui. E poi mi ha passato un lavoro tramite Salvatore e Casamonica. Come? Mi ha passato il lavoro di Salvatore e Casamonica a cui ho fatto dei lavori. Ecco, fermiamoci a questa questione. Sì. Quando avviene? Che epoca siamo? Non me lo ricordo, forse tre anni fa? Allora? Non me lo ricordo. Non ho... Cioè, lei è la prima volta che conosce questo Salvatore e Casamonica? Quando è? Non me lo ricordo, però l'ho conosciuto tramite Emanuele Quattrocchi. Ok, sempre da questo verbale, sempre in ricordo, in aiuto alla sua memoria, lei dichiara, allora quando, fatta questa premessa, continuando il discorso iniziale, come dicevo, sono entrato in contatto con Salvatore e Casamonica, allora quando, tale Emanuele Quattrocchi, verso la fine del 2015? Ora non ricordo, chiedo scusa, ma non ricordo proprio... No, l'ho capito. Dico, questo è quello che ha dichiarato i Carabinieri, all'epoca erano... Di Frascati, giusto? Sì. Sì, allora si è quello. La conferma questa dichiarazione? Cosa? Lo conferma quello che ha dichiarato i Carabinieri? Sì, se l'ho dichiarato, certo che lo confermo. Ora non ricordo esattamente, perché è passato un po' di tempo e ho avuto anche un po' di problemi a casa, quindi... Vabbè, non si preoccupi, piano piano... Un po' di cose le ho rimosse, ecco. E che lavori doveva fare lei e dove? Allora, io ho fatto dei lavori... Parlo della prima volta che lo conosco. A Via della Selvotta, numero uno mi sembra, forse. Dove? A Frascati? A Frascati. E che lavoro doveva fare? E ho montato, parlo solo di prestazione di mano d'opera, ho montato un termocammino. Un? Un termocammino. Un termocammino. E ho fatto un piccolo impianto di irrigazione. Allora, andiamo con ordine. Emanuele, Quattroocchi le propone di fare questi lavori? Sì. Per questo Salvatore Casamonica, che le conosceva? Emanuele mi ha presentato questo Salvatore, dicendomi appunto che, dice, ti porto dal mio compare, l'ha chiamato dal mio compare, gli devi fare dei lavoretti, dice, vai là, gli fai un preventivo, se va bene glieli fai. E così è stato. Come si è messo in contatto con questo Salvatore Casamonica, lei? Emanuele, tramite Emanuele, appunto, gliel'ho detto, cioè Emanuele mi ha presentato, Salvatore, e da lì poi ci siamo conosciuti, ci siamo scambiati il numero di telefono e comunque abbiamo avuto contatti lavorativi. Riesci a ricordare la prima volta che l'ha visto, dove l'ha visto? Salvatore? Sì. Ci siamo dati l'appuntamento proprio per andare a fare il sopralluogo dei lavori, e non so come spiegarglielo ora, ha visto, come glielo spiego, dove era una volta l'American Express dopo gli studi cinematografici? Sì. Andando verso fuori Roma. Quindi sulla Toscolana? Sulla Toscolana, c'è quel nuovo semaforo? Sì. Ecco, ci siamo incontrati, ci siamo dati l'appuntamento là perché io stavo tornando da un lavoro, da Roma stavo tornando a casa perché abito all'Ariano, e gli ho detto appunto, siccome non sapevo dove lui abitasse o comunque stesse facendo i lavori, gli ho detto guarda Salvatore io sto sulla Toscolana, incontriamoci da qualche parte, e ci siamo incontrati lì. E lei ricorda che, lo capisco, è una domanda che le devo fare prima di andare oltre, che il numero di telefono le era stato dato per contattare questo Salvatore Casamonica? No, sinceramente non ricordo il numero di telefono di Salvatore, non me lo ricordo. Perché lei in questo, chi gli era dato? Cioè il numero di telefono lei come l'ha avuto? L'ho avuto tramite Salvatore perché praticamente ci dovevamo tenere in contatto per un preventivo, per i lavori visti. In questo verbale lei dichiara che il numero di Salvatore in quel momento era 324-5481-563. Mi ricordo che, perché ora ho anche cambiato telefono e mio figlio me l'ha buttato nel Valer, quell'altro, mi ricordo che i carabiniani di Frascati mi chiesero il suo numero e mi sembra che glielo chiedi, però non ricordo. Esattamente, ed è questo il numero che ha fornito. Ok, allora se è quello, è quello. Lo conferma? Sì, se glielo ho dato io sì. Senta, come arriva? Riesce a ricordare Salvatore Casamonica quando vi vedete per andare a fare poi il sopralluogo? Sì. Come arriva? A piedi, in autobus, in maniera? No, con una macchina. Se la ricorda che macchina era? Un Mercedes, non ricordo il modello. Ma lei lo conosce, cioè le viene presentato in quel momento come Salvatore Casamonica o semplicemente in altra maniera? Cioè, in quel momento, quando le viene presentato, anche quando va a fare il sopralluogo, lei sapeva che era Casamonica Salvatore? Non sapevo che fosse Casamonica. Sapevo che fosse Salvatore, ma non sapevo che fosse Casamonica. Il cognome, ho capito. Quindi, siamo al momento del sopralluogo, andate sul posto e che succede? Niente, mi ha fatto vedere i lavori da fare, da svolgere, ci siamo messi d'accordo e è andato tutto bene. Io ho fatto i lavori che avevamo appunto, che li ho citato prima. Che importo aveva preventivato? Mi chiede una cosa a cui io le rispondo, ma molto largamente, perché non ricordo, come le ripeto, è passato un po' di tempo. Mi sembra intorno ai 1200 euro di lavoro. Lei dice che l'ammontare dei preventivi era di circa 3500-4000 euro. Sì, però abbiamo defalcato delle voci dai preventivi. Abbiamo fatto i lavori che le ho detto prima, il termocammino all'impianto di irrigazione. Il preventivo che lei sta dicendo è perché c'erano accorpati altri lavori che abbiamo defalcato, perché insomma, abbiamo detto di fare una cosa alla volta. Quindi il preventivo iniziale era di 3500-4000. Lei invece poi esegue i lavori effettivi per quanto? Bravissimo, per circa 1200 euro, però con materiali di loro fornitura. Non ho acquistato materiali, è solo prestazione di mano d'opera. Quindi solo mano d'opera. I materiali chi li acquistava? Li prendevo a Salvatore, me li portavo a Salvatore e io li mettevo in opera. Quanto è durato l'esecuzione di questi lavori? Beh, il lavoro mio è un po' particolare, nel senso che comunque io faccio magari una parte di lavoro, poi dopo devo aspettare che passi il muratore per chiudere le tracce, quindi aspettare l'essiccatura dei materiali impiegati e poi dopo ritorno nuovamente a finire il lavoro. Quindi un po' di tempo sono durati i lavori. Credo, non glielo so dire, non lo so, non me lo ricordo. Più o meno, un altro tempo non lo riusciamo a dare? E quando terminano? Non me lo ricordo. Sul termine dei lavori, lei dichiara questo. Al termine dei lavori avvenuto, credo, verso il mese di settembre dell'anno 2016. Se io ho detto questo è così, perché io non dico bugie, quindi se è quello che ho detto è quello. Ma questa casa com'era? Era finita? No, era relativa, non è una data precisa. Ok, va bene, ho capito. Questa casa era finita? Era in corso di ultimazione? Era in ristrutturazione? Cioè, com'era? Io non lo so, perché quando sono arrivato a fare i lavori, comunque una parte dei lavori già era stato fatto. Sì, ma era in costruzione, era in ristrutturazione, non ho capito... Era in fase di ultimazione. Sì, ma era una villa che si stava costruendo ex novo o si stava ristrutturando? Non glielo so dire se fosse una ristrutturazione, una costruzione ex nova, non glielo so dire. Le opere di muratura c'erano, non c'erano? Non ho capito. Le opere di muratura c'erano? Sì, 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 sì. Si stavano facendo o c'erano già? No, no, c'era quando sono entrato io, lei mi parla a livello di muri, tamponature, cose varie. Sì, sì, no, già c'erano. Perché lei dichiara questo, questo volevo chiedere. Presidente, scusi da Benevento. Sì, prego. Casamonica Giuseppe, del aprile 72, ha presentato un'enuncia parziale a proseguire dell'udienza. Possono interrompere mentre sta facendo la ciancia. Va bene, però ascolti, diciamo, cercate di approfittare di un attimo, se non è estremamente impellente, un attimo che c'è una pausa, perché se uno sta facendo una domanda o il test sta dando una risposta, si interrompe l'esame in modo un po' brusco, ha capito? Va bene, comunque ne prendiamo atto e lo mettiamo a verbale. Grazie. Sì. Prego. Perché lei, le stavo dicendo, sempre da questo verbale, dice faccio presente che la villa in questione era ancora in fase di ultimazione, pertanto i lavori riguardavano anche di opere di muratura. Sì, perché comunque c'era il pittore che stava ultimando i lavori, comunque sono opere murarie, no? Stuccature, cose varie. È stato pagato? Io siamo stato pagato, sì. Da chi? Da Salvatore. In che forma? Sono stato pagato in contanti, in due o tre, no, in tre tranche, se mi ricordo bene. Cioè, quando mi occorreva denaro, io glielo chiedevo e lui, insomma, il giorno dopo me lo dava, Massimo. Scusi, l'ha detto la modalità, mi sono distratto un attimo. Non ho capito. È stato pagato? In che forma l'ha detto? Mi sono distratto. In contanti, in contanti, in contanti e in tre tranche, tre tranche, mi sembra di ricordare, se ricordo bene, sì. Cioè, non era un pagamento stabilito. Quando mi occorreva denaro, glielo chiedevo e lui, insomma, provvedeva il giorno dopo. Senta, lei all'inizio ha detto, io lo conoscevo come Salvatore. Sì. Quando è che poi ha capito che era Salvatore e Casamonica? È perché l'ho sentito poi, l'ho sentito in cantiere, ma insomma... Sì, mentre sta facendo questi lavori. Sì. Il fatto che si trattasse di un Casamonica le ha provocato qualche stato d'animo, qualche reazione? A me non ha provocato alcuna reazione, anche perché, sinceramente, i fatti stabiliti con Salvatore, fortunatamente, sono stati rispettati tutti quanti, sia da parte mia che da parte sua, quindi io non ho avuto alcun tipo di problema a livello... No, ma a prescindere da... io non le ho chiesto se lei ha avuto problemi o se qualcuno le abbia mai... Se il suo cognome mi avesse dato ansia? Eh. No, no, vabbè, perché, come le ripeto, l'ho saputo dopo che avevo cominciato i lavori e già ero stato comunque pagato in parte, quindi dico ok, sarà Casamonica, però comunque sia... Io il mio compenso lo sto ricevendo, finché va bene, va bene, insomma, ecco. E hai inciso nello svolgimento dei lavori il fatto che lei avesse saputo, cioè da parte sua ovviamente, che avesse saputo che si trattasse di un Casamonica? Ma no, no, perché io comunque sia esercitavo solamente la mia professione e la faccio in modo molto sicuro, in quanto la faccio da diversi anni e non mi faccio influenzare dalla persona, capito? Io penso al mio lavoro, penso alla mia retribuzione... Sempre dallo stesso verbale? Lei dichiara questo? Tengo a precisare, ok, la devo leggere questa, qui non c'è nessun contrasto, tengo a precisare che solo durante i lavori sono venuto a conoscenza che il cognome di Salvatore era Casamonica, fin qui nessun problema. Da allora, conoscendo la nomea di questa famiglia, cominciai anche ad avere paura, perché provavo una certa agitazione, sebbene Salvatore... no, scusi, anche ad avere paura. Quindi cercai di svolgere il lavoro nel più breve tempo possibile, ma solo e esclusivamente perché provavo una certa agitazione, sebbene Salvatore non abbia mai avuto un comportamento ostile e aggressivo nei miei riguardi. L'ultima parte non c'è contrasto, c'è un contrasto rispetto a quanto ha dichiarato oggi. Forse io, come le ripeto, potrei avere qualche dimenticanza, per carità di Dio, se inizialmente stai lavorando a casa di una persona come Salvatore Casamonica, magari te lo dicono, forse lì per lì ti prendono questa votanza, però io questo non lo ricordo, sono sincero, non lo ricordo. Però come le ripeto e come lei ha letto, non sono mai stato importunato, comunque non mi è stato mai dato motivo di avere paura, perché con me si è sempre comportato in modo normale, regolare, come io con lui. Allora, ascolti, qui non c'è scritto che lei si è messo in uno stato di paura e di agitazione perché qualcuno gliel'ha indotto. Qui c'è scritto che lei, una volta appreso che Salvatore era Salvatore Casamonica, conoscendo la nomea di questa famiglia, leggo testualmente, cominciai anche ad avere paura e quindi cercare di svolgere il lavoro nel più breve tempo possibile, ma solo esclusivamente perché provavo una certa agitazione. Ma ora non ricordo bene, sinceramente, forse sì il cognome pesava, perché io non avevo mai avuto a che fare con Casamonica, forse inizialmente quando ho saputo il cognome e forse mi ha creato un po' d'ansia, un po' di paura, perché so pure un po' così io, però non me lo ricordo, io sia gentile, non me lo ricordo, non mi ricordo lo stato d'animo, non me lo posso ricordare. Sì, queste sono cose che dichiarano i carabinieri, quindi io voglio capire se è così o non è così. Mi deve lasciare parlare perché se no non viene la registrazione. Siccome è differente quello che lei ha dichiarato ai carabinieri rispetto a quello che invece ha dichiarato oggi a noi. Quindi voglio capire se quale delle due versioni è quella corretta, se è come ci ha dichiarato oggi, che aver saputo che Salvatore Casamonica a lei non ha praticamente inciso in nulla né nel suo stato d'animo né nei lavori, oppure se è come dichiarato ai carabinieri che aver saputo che Salvatore Casamonica le aveva messo in uno stato di paura e l'aveva indotto a finire i lavori nel più breve tempo possibile proprio perché era agitato. Mi attengo a quello che ho detto ai carabinieri in quanto era più fresca la situazione rispetto ad oggi, quindi mi attengo a quello che è stato detto ai carabinieri del nucleo investigativo di Frascati, però sottolineo che comunque sia non mi ha dato, era forse uno stato d'ansia dovuto al cognome, ma non dovuto magari a lui che mi ha fatto pressione o cose, ha capito che voglio dire? Questo infatti c'è scritto anche nel verbale. A posto. Oltre questo, scusi, per questi lavori, lei ha mai avuto rapporti economici con il signor Quattrocchi? Cioè ha mai ricevuto soldi dal signor Quattrocchi per questi lavori? No. Di Permicino sto parlando, di Piazza della Servotta. No, 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 no. Non le ha mai dato nulla a lui? Non mi sembra, non mi sembra, non me lo ricordo, non mi sembra. Non se lo ricorda o non le sembra? No, non mi sembra proprio, sinceramente. Io non, mannaggia, non ricordo, non ricordo. Non se lo ricorda. Ma oltre a lei lavorava qualche altro operaio di Lariano in questa villa? C'era un ragazzo, però non ricordo il nome, perché sinceramente sì, l'ho visto di vista, magari al paese, però non ricordo il nome. Non me lo ricordo il nome. E ha saputo come era andato lì a fare i lavori? Cioè, non coincidenza, sono due persone di Lariano che si trovano... Parlando, no, sì, sempre tramite Emanuele, sempre tramite Emanuele. Sempre Emanuele. E che lavori stava facendo quest'altro ragazzo? Il pittore. Il pittore? Sì. Ma il nome proprio neanche se lo ricorda? Sa che io non me lo ricordo, perché non è una persona che io ho mai frequentato, sinceramente sì, vista di passaggio così, ma non... Però era di Lariano e sa che era stato sempre Emanuele Quattrocchi a procurarlo a Salvatore Casamonica. Sì, sì, sì. Questo è stato l'unico lavoro che lei ha fatto per conto di Salvatore Casamonica? Eh, avevo fatto... avevo... eravamo andati, mi aveva portato in una... in una casa di... a Lavinio, però non ricordo ora la strada. Io lo... glielo dissi anche ai carabinieri di Frascati, perché... Allora, prima di arrivare... Quando lo collochiamo nel tempo questa questione di... Ma ha detto che paese non voglio... Lavinio. Lavinio? Sì. Adesso ci arriviamo. In che epoca lo collochiamo questo... quest'ulteriore vicenda? Ma poco prima che... che succedesse il fatto che... con i carabinieri, insomma, che lo arrestassero... Infatti ho fatto... lì ho fatto ben poco... cioè lì ero andato solamente a vedere... Aspetti, prima di approfondire, voglio fermarmi all'epoca. Lei, carabinieri, dichiara... verso gli inizi dell'anno 2018 venni contattato nuovamente da Salvatore Casamonica. Quindi colloca questa vicenda agli inizi dell'anno 2018. Sì, poco prima che comunque venne arrestato, perché io ora non ricordo bene le date... Non ho memoria, non ho molta memoria di questo. Però io quello che le dico è... quello che sta scritto comunque io lo confermo se lei me lo dice. Prima di questi lavori, cioè dopo che lei ha finito i lavori a Via della Servotta? Sì. Banca l'energia elettrica a Messina. Dobbiamo aspettare un attimo. Va bene. Non hanno il collegamento, quindi aspettiamo un attimo. Anche se la posizione di Messina cos'è? Giovannina? Vabbè, insomma. Vabbè, insomma. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. Salvatore. Grazie a tutti. 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 Partedì. Grazie a tutti. 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 a tutti.